Buongiorno a tutti, sono passata solo per un saluto e per ringraziarvi perché questo sperimentale primo corso di mediazione penale minorile sta seguendo l'ITER, immagino che ci sia da parte vostra, ci potrebbe essere qualche esigenza, vi prego di rappresentarla. Noi ce la stiamo mettendo tutta e ringrazio in modo particolare la collega Renola Grimaldi che è il team leader di questo gruppo e tutti i colleghi e le dottoresse che partecipano. Oggi sarò qui con voi per poco e adesso mi taccio ed apprendo insieme a voi. Grazie. Grazie Irma, io gli farei un applauso perché diciamo che è per lei che noi oggi siamo qui in questo laboratorio sperimentale. Allora oggi affronteremo, purtroppo c'è un po' di traffico e quindi mi rendo conto che è stato un po' dura arrivare tutti quanti, però oggi diciamo sarà una giornata piuttosto piena perché affronteremo appunto come da programma la psicologia dell'età evolutiva e della famiglia. Quindi in realtà appunto avremo nella prima parte proprio appunto diciamo una rappresentazione di quelle che sono le problematiche relative alle famiglie disfunzionali e funzionali, quindi anche per riconoscere come abbiamo detto poi fino adesso la possibilità che in un caso di mediazione penale possa esserci naturalmente e non solo minorile, quindi anche per adulti una problematica ulteriore che arrivi diciamo dalle dinamiche familiari e per questo molto spesso i centri di mediazione penale sono anche affiancati a centri di mediazione familiare. Affronteremo poi successivamente la psicologia proprio nell'età evolutiva e in particolare relativa diciamo alla devianza, ai comportamenti devianti con appunto quelli che possono essere gli indici che ci fanno capire che una modalità comportamentale è comunque borderline e a noi come mediatori penali è assolutamente necessario avere questi spunti perché appunto dovendo poi relazionare all'autorità giudiziaria anche se sinteticamente se ci sono delle problematiche anche psicologiche che ci fanno riflettere è chiaro che a quel punto devono essere comunque segnalate. E poi affronteremo la parte diciamo della criminologia che abbiamo già affrontato in maniera storica col collega Mazza, Francesco Mazza, ma che adesso approfondiremo con la criminologa proprio relativa appunto ai comportamenti devianti, quindi quello che insomma in criminologia viene comunque rappresentato come un comportamento deviante sia qualora diciamo questo sia ravvisato nell'ambito di un soggetto minorenne sia che questo invece faccia parte appunto della condotta di un soggetto maggiorenne e poi faremo appunto una parte pratica che credo sarà molto interessante perché oltre a riprendere la simulazione dell'altra volta con i fasi successivi coadiuvati dalla dottoressa Izzo che è una facilitatrice, in realtà faremo anche il cosiddetto genogramma che per alcuni che sono mediatori familiari forse è un istituto che è conosciuto però secondo me è molto importante perché diciamo ci farà capire anche quanto e questo suggerimento della collega Paola Croce che più volte l'ha detto se facciamo i mediatori i primi a mediare nella nostra vita dobbiamo essere noi quindi spiegheremo che cosa è il genogramma ma anche diciamo lo faremo praticamente chiaramente per chi vuole partecipare perché diciamo è un io lo consiglio di farlo perché farlo insomma in prima persona è sempre molto rivelatore diciamo come istituto allora io passo la parola alla collega Paola Croce che come al solito mi coadiuva nella e quindi insomma diamo inizio alla lezione buongiorno buona giornata bentrovati io vi presento immediatamente la nostra prima relatrice che la dottoressa Valentina Grimaldi pediatra di famiglia ASL Roma 2 psicoterapeuta della famiglia e dell'età evolutiva da sempre impegnata nello studio della ricerca delle tematiche endofamiliari come membro del comitato scientifico federazione italiana medici pediatri spero di non aver trascurato nulla e ci parlerà approfondiremo con lei la tematica delle famiglie funzionali e disfunzionali grazie ok grazie a voi dell'invito sono molto contenta di essere qui oggi anche perché appunto sono un pediatra tipico perché sono pediatra e faccio questo mestiere da quasi 30 anni però sono anche psicoterapeuta dell'età evolutiva perché questa doppia diciamo professionalità perché nel corso degli anni mi sono resa conto come siano cambiate proprio le esigenze delle famiglie e dei bambini il tipo di richieste che noi abbiamo non sono più soltanto richieste prettamente cliniche quindi richieste legate a malattie acute come poteva essere tanti anni fa ma adesso c'è sempre di più proprio una necessità di ascolto di accoglienza e tutta una serie di problematiche sociali che si è visto proprio nel corso degli anni quindi avere un ruolo fondamentale proprio nel determinismo poi della salute dei piccoli quindi sì sono un po' scomoda perfetto io sono abituata a muovermi quando parlo quindi essere inchiodata qui è complicato niente quindi ecco questo dicevo è un argomento che sicuramente ci accomuna perché abbiamo veramente adesso viviamo una realtà sociale nella quale le famiglie sono sempre più sole ci sono molti casi di abuso e di maltrattamento spesso misconosciuti e tutti quanti ci rendiamo conto di come le influenze ambientali poi determinano determinano sulla salute e sulla struttura del bambino delle influenze molto grandi vado ad iniziare la famiglia dunque la famiglia è una definizione complessa e se noi vogliamo riferirci a un discorso di tipo sociologico per famiglia si intende proprio quella struttura sociale o gruppo i cui membri sono uniti dalla convivenza e quindi convivono insieme e danno un legame di tipo affettivo e di parentela che li accomuna ma parliamo di famiglia anche di quegli individui che hanno un legame di tipo di filiazione, matrimonio, adozione pur vivendo in ambiti diversi queste sono sempre due definizioni di famiglia la famiglia considerate che per il bambino è proprio il suo ambiente cioè quando noi pensiamo all'ambiente del bambino la famiglia è il primo punto che dobbiamo indagare questo storico vissuto tra il 1915 e il 2001 fece una prima classificazione di famiglia in cinque tipi nucleare, estesa, multipla, del solitario, noi adesso diremmo monoparentale e senza struttura considerate che c'erano anche gli anni delle comuni di quegli esperimenti anche che si facevano vivere i bambini in delle comunità quindi diciamo suddivise la famiglia non soltanto la famiglia legata dal vincolo del matrimonio e coniugale ma anche famiglie dove c'erano degli adulti che si occupavano dell'educazione dei bambini pur non avendo tra loro dei legami familiari questo perché? perché lo vedremo poi in seguito è molto importante e riveste un ruolo fondamentale il cosiddetto caregiver nell'educazione del bambino cioè colui che si prende cura del bambino sia esso la madre, il padre biologico sia esso un educatore, un individuo di riferimento quanti tipi di famiglie esistono oggi? beh sicuramente abbiamo assistito proprio a un grosso cambiamento tra quella che era la famiglia tradizionale e la famiglia di oggi quindi c'è proprio nuove famiglie versus modello tradizionale questo perché? perché la famiglia ha sempre seguito nella sua evoluzione quella che è l'evoluzione sociale, della struttura sociale quindi indubbiamente nell'occidente, negli ultimi secoli, negli ultimi decenni c'è stato uno stravolgimento della famiglia legato sostanzialmente alla donna che ha cominciato a lavorare questa penso che sia proprio una cosa tra le più ovvie che tutti possiamo vedere quindi la donna che prima era in qualche maniera il riferimento della famiglia con lei che si faceva carico di tutto il clan familiare cominciando a lavorare fuori casa ha chiaramente portato tutta una serie di cambiamenti pertanto adesso possiamo parlare di famiglia monogenitoriale famiglie ricostruite che sono appunto quelle famiglie dopo divorzi e separazioni che ricostruiscono altri nuclei familiari famiglie di fatto immigrate e questa è un'altra realtà con la quale dobbiamo fare i conti nel senso che queste sono tutte situazioni che noi dobbiamo imparare ad integrare nella nostra professionalità nel senso la famiglia integrata con una coniugalità diversa dalla nostra è comunque la famiglia che va a scuola con il nostro figlio e così come per quella famiglia c'è una necessità di fare i conti con la famiglia modello occidentale anche i nostri ragazzi fanno i conti con quel tipo di famiglia per cui questo perché sottolineo questo aspetto perché molto spesso soprattutto per esempio nella mia categoria si fa finta di niente no vabbè dice ma quelli sono immigrati eh sì ma quelli vivono vicino a te e quindi non puoi non considerarli non puoi pensare che non eserciti nessun tipo di influenza abbiamo poi le famiglie arcobaleno e questa è una realtà sempre più presente sempre più frequente di coppie omosessuali al di là dei giudizi personali e dei credi di ognuno queste sono realtà che esistono e questa è l'altra cosa importantissima perché poi noi purtroppo un pochino in Italia sembra che le cose ci cadano sempre dall'alto in realtà non ci si rende conto mai in tempo delle cose o chi se ne rende conto poi di fatto non ha o il potere istituzionale o non ha i mezzi per in qualche maniera diffondere certi pensieri e quindi come ribadisco esiste uno stretto legame proprio fra famiglia e società di conseguenza la complessità della famiglia è sempre più articolata proprio perché viviamo in un contesto sociale che si arricchisce sempre di più e la grande differenza che noi abbiamo con i secoli passati l'evoluzione c'è sempre stata ma adesso noi abbiamo avuto un'evoluzione velocissima cioè dal 1900 ad oggi sono stati fatti dei progressi enormi progressi intendo di cambiamenti anche nella nostra comunicazione nel modo di relazionarci che ha chiaramente non ci ha dato il tempo mentale anche di metabolizzarli e quindi è veramente forse la vera difficoltà che noi abbiamo in questo momento è che ci troviamo nel momento in cui ci adattiamo integriamo un cambiamento già siamo vecchi e quindi questo sicuramente è la sfida più importante ho messo questa vignetta perché secondo me a parte essere simpatica dice figlio mio quando ti fai una famiglia e lui risponde c'è tradizione? ah non c'è? ah cioè non si vede nulla? ah ho parlato ah 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 non si vedeva niente ah ok ah ok arrivato eh neanche adesso eccola ok dice figlio mio quando ti fai una famiglia e allora gli risponde dice tradizionale monoparentale di fatto sui generis allora è carina la vignetta ma il senso di questo è soprattutto per dire che nonostante i cambiamenti della famiglia la famiglia rimane per l'individuo fondamentale proprio per sviluppare la propria identità quindi sia essa la famiglia appunto tradizionale monoparentale sui generis di qualunque tipo vogliamo essere chi si occupa del ragazzo che fa famiglia intorno a lui del bambino ha la responsabilità della sua formazione nel senso proprio che ne sviluppa la sua cioè è alla base della sviluppo dell'identità di quell'individuo i modelli di funzionamento familiare adesso vi do delle indicazioni così molto veloci si articolano su delle variabili tre variabili che sono state un pochino sintetizzate per cercare di capire e sono tre variabili importanti perché sono l'adattabilità la coesione e la comunicazione efficace cioè il funzionamento familiare ottimale dovrebbe avere questi tre parametri in armonia e da questo tipo di interrelazioni abbiamo tre tipi di famiglie sostanzialmente ho chiamato la famiglia sana o funzionale semifunzionale e disfunzionale come dovrebbe essere una famiglia sana? dovrebbe avere appunto queste tre variabili in equilibrio quindi sostanzialmente dovrebbe essere una famiglia che ha adattabilità dove per adattabilità intendiamo proprio apertura all'esterno questo è molto importante anche quando vengono presso i nostri studi vedere anche il livello di socialità delle famiglie perché la famiglia che si chiude che vive una realtà troppo circoscritta troppo relegata è assolutamente una famiglia che ha dei lati disfunzionali perché l'apertura verso l'esterno è anche proprio uno dei compiti del genitore per il figlio perché noi insegniamo ai nostri ragazzini ai nostri bambini proprio le modalità, le regole per entrare nella società quindi capite bene che una famiglia chiusa è una famiglia che già viene meno ad uno dei compiti più importanti si agisce in autonomia quindi i membri della famiglia mantengono la loro autonomia individuale ma c'è un senso di appartenenza e ci sono ruoli, regole e aspettative definite ora questa non è la sede per ampliare questo discorso ma solo su questa frase praticamente dovremmo fare un convegno perché le regole nella famiglia sono fondamentali e devono essere chiare e condivise faccio solo un piccolo accenno si parte dalle regole fin da subito quindi non dobbiamo pensare di dare le regole all'adolescente a 15 anni se a 3 anni, a 2 anni non le abbiamo date queste regole e si comincia dalle piccole cose io delle volte racconto anche così ad amici vengono a studio delle persone che mi portano i figli e allora sono due le situazioni che mi lasciano sempre sconcertata una io faccio una prescrizione magari a un bambino che ha 2 anni di una medicina che è cattiva che non piace allora il genitore si gira al figlio meno di 3 anni va sicuro e gli dice hai sentito la dottoressa dottoressa gli spieghi come deve prendere lo sciroppo e io più delle volte dico signora ma la madre è lei cioè l'autorevolezza ce l'ha lei non ce l'ho io non posso spiegare io al bambino devi essere tu a farlo ma non perché io non lo voglio fare ma perché sei tu madre che devi dare questo tipo di regola l'altra cosa scelgono i vestiti allora va benissimo scegliere il vestito alle elementari al liceo alle medie quando sia ritorno 2 anni 3 anni questa mattina non abbiamo fatto in tempo perché sai io gli faccio scegliere il vestito perché beh è importante educarli alla libertà ma non a 2 anni cioè a 2 anni il vestito glielo devi scegliere tu perché la regola gliela devi dare tu e in quel modo banale tu ti poni già a un livello diverso rispetto a tuo figlio quindi ecco purtroppo questo nasce anche da un'informazione spesso confusa che arriva in maniera senza che uno abbia poi degli strumenti per capire certe informazioni che ti arrivano e quindi le persone credendo di essere di educare i figli alla libertà fanno fare questo tipo di cose che chiaramente poi il bambino fa i capricci cioè è tutta una catena potere condiviso fra i genitori e chiaramente i sentimenti e le emozioni sono riconosciuti ed espressi questo è un altro aspetto importante la famiglia è il luogo dei sentimenti non ce lo dimentichiamo mai a volte a volte diciamo in questo momento siamo talmente in tanti a dire ai genitori quello che vogliono fare che devono fare che queste famiglie diventano veramente delle caserme se uno sta lì proprio a seguire nel dettaglio e si perde di vista la cosa più importante che poi la famiglia deve essere veramente il luogo degli affetti e tornando al discorso iniziale dei tre punti delle tre variabili da tenere conto nella gestione dei conflitti c'è la famiglia sana in grado di gestire i conflitti quindi negoziare e mediare le differenti esigenze dei vari membri garantire a ognuno l'espressione delle proprie necessità senza intaccare chiaramente la libertà degli altri questo è quello che voglio dire e non esiste la famiglia del mulino bianco ecco questa è l'altra cosa molto importante che la gente deve sapere esistono famiglie dove i problemi si affrontano insieme e si cerca di trovare una soluzione quindi la gestione educare la gestione dei conflitti educare che qualunque cosa si può discuterne se ne può parlare questo sicuramente è l'insegnamento più importante la famiglia sana come dicevo fondamentalmente deve avere una funzione emotiva affettiva perché perché il bambino impara i sentimenti proprio vivendoli e li impara in casa questa è l'altra cosa che spesso noi non non sottolineiamo abbastanza e a volte faccio un esempio perché forse rimane più semplice il lutto il lutto è una cosa purtroppo molto frequente muore il nonno muore un amico muore una persona e una delle domande che appunto più spesso mi è capitato che mi venisse fatta è questa è morta la nonna che faccio glielo dico o non glielo dico lo porto al funerale non lo porto al funerale dico che è partita dico che è andata da un'altra parte ecco questa è una cosa che invece va spiegata cioè il lutto e il dolore è un sentimento è un sentimento brutto di cui si fa uno volentieri ne farebbe a meno e che non vuole vivere ma fa parte della vita e tu devi educarlo anche al sentimento negativo quindi che significa significa che se è morto il nonno a seconda dell'età gli si dà una spiegazione che possa essere comprensibile per quel bambino che non c'è una regola fissa ma bisogna dire la verità perché i bambini capiscono quando tu menti e una delle cose peggiori anche proprio nell'ambito dell'educazione ai sentimenti è quando il figlio domanda mamma sei triste no 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 non ti preoccupare sto bene sto bene lui capisce perfettamente che tu sei triste negandogli la realtà delle cose lo fai gli fai credere che quelle sue sensazioni sono sbagliate perché lui in realtà aveva intercettato bene che tu eri triste se tu però gli rispondi che non è vero gli rimandi il contrario e quindi capite che si crea una discrepanza e a quel punto lui non si fida perché poi capisce che tu gli menti allora ritornando al lutto in base all'età del bambino in base al tipo di confidenza che c'è alla realtà che si è creata va detta la verità come va detto mamma è triste perché è morto il nonno e piange cioè è una cosa normale e abituarsi a queste cose significa anche educarli a vivere in famiglia le emozioni e non a rivolgersi altrove perché poi si apre il grande capitolo adesso del web e di tutte queste situazioni la dipendenza dal web eccetera allora anche il web va integrato ma tu le emozioni se le hai vissute nella realtà allora riesci anche a integrare il web come parte di te ma se le vivi in quella realtà lì che non è la realtà vera allora poi ci sono una serie di disfunzioni che insomma chi è più esperto di me mi dirà pertanto ecco la famiglia se riesce a soddisfare questa necessità soprattutto proprio di creare un ambiente la famiglia come culto proprio come luogo per soddisfare le emozioni crea sicuramente benessere psicologico nei bambini e nei membri e ne fanno parte le funzioni della famiglia sono tante fondamentalmente come vi ho già detto ecco queste le scorro velocemente sono le principali e non ci dimentichiamo che la famiglia è anche fondamentale proprio nella trasmissione culturale nello sviluppo e orientamento dell'identità sessuale quindi abbiamo veramente una situazione molto seria una responsabilità grande quali sono invece le famiglie semifunzionali sono quelle ad esempio dove c'è una buona coesione magari la coppia è una coppia che si ama che si vuole bene come dice la vignetta dice ti amo come Dante amava Beatrice come mai che facciamo sempre una vita d'inferno anziché di paradiso proprio perché poi di fatto mancano le altre componenti perché magari non c'è dialogo perché magari non c'è adattabilità e le altre variabili quindi non sono in equilibrio e in questo tipo di famiglie noi osserviamo sostanzialmente due atteggiamenti di fronte soprattutto alla gestione del conflitto che è un po' lo specchietto torna sole della famiglia possiamo avere una situazione evitante cioè quelle famiglie che fanno finta di niente e questo è un livello di aggressività come si dice passivo-aggressivo che forse è peggio di quello che mena non so diciamo che sono tutte e due negativi però ecco la persona che nega che fa finta di niente che non esiste il problema e lì veramente c'è una rabbia inespressa è una tensione nella famiglia che è micidiale e bambini molto spesso sono questi bambini che poi hanno questi sfoghi di rabbia terribili al di fuori della famiglia proprio perché in casa anche lì c'è una repressione totale delle emozioni e qui appunto ci vorrebbe per ogni cosa grandi capitoli oppure al contrario alta emotività espressa quindi quelli che fanno liti furiose tipo la vignetta e quindi di conseguenza sempre non hanno una capacità di dialogo costruttivo la famiglia totalmente disfunzionale è quella la quale manca completamente tutte e tre le caratteristiche di cui abbiamo parlato e quindi hanno un'adattabilità caotica quindi a volte fanno una cosa a volte fanno un'altra rigida e questo naturalmente porta a una come nel caso precedente o a conflitti veramente accesi ma soprattutto queste sono le famiglie che più frequentemente vanno incontro a violenza verbale ma a minacce ma anche violenza fisica e quindi ecco è importante aver presente che purtroppo la violenza fisica la violenza assistita sono realtà dei nostri giorni e non sono cose che si leggono nei suoi giornali la cosa che siamo andati un po' a ritroso ma quello che noi non dobbiamo mai dimenticare è che all'origine della famiglia c'è la coppia quindi se c'è una coppia che già parte male una coppia cosiddetta appunto disfunzionale anche questa è inevitabile che la famiglia ne faccia le spese e questo è molto difficile spesso da far capire ai genitori quando tu mandi magari da un paziente un bambino in psicoterapia il terapeuta convoca la famiglia ovviamente e poi decide di fare una terapia di coppia e arrivano e dicono ma perché la terapia di coppia che c'entra quei suoi problemi mie e di mio marito che io non l'abbia mai sopportato è un'altra storia però il figlio è questo perché perché non si capisce cioè sembra così strano e non è strano se ci ragioniamo che il figlio vive un disagio che in realtà è il disagio della coppia genitoriale tanto spesso ci capita di sentire bambini che dormono nel letto dei genitori a 10 anni che è una cosa che assolutamente non stande in cielo né in terra ma perché il bambino deve sviluppare la propria individualità e una delle prime cose è proprio separarsi dal genitore poi la coppia deve avere una stanza il figlio ne deve avere un'altra cioè ci deve essere proprio una divisione anche fisica delle cose ma molto spesso è perché la madre non vuole dormire col padre e quindi utilizza il figlio come strumento per aspetta adesso io che tiro fuori ecco che utilizza il figlio poi come strumento per gestire i propri problemi le coppie nascono per tanti motivi ne ho elencati qualcuno ma una cosa che vi volevo portare l'attenzione perché per chi fa i nostri lavori è importante spesso si sceglie un partner che assomiglia al nostro genitore di sesso opposto oppure per soddisfare o risolvere desideri personali e rafforzare il nostro io quindi non è sempre una scelta così diciamo idilliaca ad esempio si è visto che nel caso appunto di la violenza assistita faccio riferimento spesso a questo perché in questo momento ci stiamo occupando molto di questo problema dei bambini sui peribambini le bambine che hanno avuto esperienze di violenza in famiglia quindi che sono state che hanno assistito a genitori violenti che il padre che picchiava la madre eccetera le bambine molto spesso vanno a ricercarsi situazioni di questo tipo dove c'è un partner violento perché per loro l'amore coniugale è quello cioè hanno quel modello lì anche se razionalmente cercano di non riprodurlo però inconsciamente è quello quello che hanno visto per non parlare poi tutta una serie di implicazioni anche svalutanti che su di te che vivi e sperimenti se vieni da una realtà familiare di questo tipo quindi ecco la coppia è una cosa molto importante da ricordarci quando parliamo di famiglia e ricordare anche di consigliare alla coppia di mantenere dei propri spazi perché comunque la coppia non deve annullarsi nel momento in cui c'è una famiglia e questo serve anche proprio per il figlio perché è una grande risorsa per il figlio avere un modello di riferimento familiare dove si vede che la coppia ha anche dei momenti suoi perché noi educhiamo il nostro figlio anche poi all'amore coniugale quello che è il partner e inoltre la coppia quindi risente dei modelli familiari di riferimento che penso anche col genogramma voi in qualche modo poi riprodate perché lo facciamo pure noi nella depressione postpartum il genogramma e degli stili di attaccamento allora apro una piccola parentesi su questi stili di attaccamento che cosa sono allora questo psichiatra Bolbi che negli anni 50 fece un esperimento interessantissimo prendendo spunto tra l'altro dai comportamenti delle scimmie quindi mettendo a confronto come al solito il comportamento umano o quello animale e studiò dei ragazzi che vivevano in orfanotrofio che erano venuti fuori dall'esperienza della guerra quindi tutti gli orfani di guerra che erano stati messi in tanti orfanotrofi e quindi cominciò a fare degli studi sulla personalità di questi bambini proprio su indicazione dell'OMS e la cosa incredibile che lui tirò fuori è che intanto che i bambini interiorizzano proprio il modello di relazione vissuta sviluppando dei modelli operativi interni cioè il tipo di vissuto che loro avevano avuto in questi istituti ma in generale i bambini il vissuto che hanno nella famiglia diventa il loro modello operativo interno mi spiego meglio riguarda cosa riguardo proprio anche un pochino al tipo di personalità che svilupperanno in relazione al tipo di risposta che loro hanno ricevuto ai bisogni che esprimevano quindi a seconda di come sono stati soddisfatti nei loro bisogni primari che non era solo il mangiare il bere ma anche proprio il bisogno di riconoscere le emozioni dei figli sviluppano dei modelli comportamentali viene elaborata quindi questa teoria dell'attaccamento dove dice che lo sviluppo armonioso proprio della personalità di un individuo dipende principalmente da un adeguato attaccamento alla figura materna o a un suo sostituto ritorniamo con questo discorso perché immaginate che qui non c'erano genitori biologici e genitori naturali questi sono tutti i bambini affidati agli istituti quindi avevano fatto delle prove delle valutazioni negli anni e avevano visto che laddove c'era un caregiver primuroso che rispondeva al bisogno del bambino che riconosceva le proprie emozioni sviluppava poi una personalità di bambino sicuro che volentieri usciva verso l'esterno che si sentiva pronta a esplorare e a ritornare indietro per ricevere le cure e il sostentamento al contrario quando c'erano caregiver che invece erano alternanti che ad esempio avevano a volte rispondevano ai bisogni del bambino a volte no venivano fuori delle personalità più insicure ansiose dei bambini che appunto erano più paurosi perché non avevano ricevuto quel rinforzo proprio nei loro bisogni che il caregiver più accudente invece aveva mostrato per cui stilò quattro tipi tre tipi di attaccamento adesso è inutile entrare nel dettaglio ma il concetto che volevo dire era di quanto sia importante poi questa prima fase della vita dei bambini elaborò appunto questi quattro tipi di personalità che noi in qualche maniera ci portiamo avanti negli anni cioè questa è la cosa importante che vorrei non sono situazioni che dimentichiamo è quasi entra nel nostro DNA e non lo dico a caso questo entra nel nostro DNA e vedrete perché questo è lo stile di attaccamento diciamo classico sicuro che viene consigliato la madre che osserva il bambino che gioca la madre si allontana lui piange la madre lo rassicura quindi il bambino che deve avere la sua autonomia deve essere lasciato fare le sue piccole prove le sue piccole difficoltà stando lì pronti a intervenire se necessario non agire al posto suo questa è un'altra cosa dei nostri giorni nessuno vuole che i figli soffrano ma certo nessuno vuole che il figlio soffre però come si dice tu devi insegnare a tuo figlio a camminare sui sassi non gli devi levare i sassi davanti alla strada perché se no nel momento in cui tu non ci sarai più quel ragazzo non è più capace di fare una serie di cose soprattutto gli trasmetti in sicurezza perché se devo essere io a spianarti la strada significa che tu non sei capace e torno a quello che dicevo prima adesso siamo arrivati a questa conclusione grazie proprio anche a tutta una serie di studi sulla neurodiagnostica che l'ambiente esterno modifica il DNA nel senso che permette l'attivazione o disattivazione di una serie di proteine o enzimi molecole eccetera che portano proprio a un differente sviluppo neuronale quindi l'ambiente soprattutto per chi lavora come noi con i bambini è fondamentale e questo e si parla proprio di neuroplasticismo perché si è visto addirittura che nei bambini abusati ci sono delle displasie a livello della corteccia cerebrale che gli altri non hanno quindi questo per dire ancora non conosciamo bene il significato però è strano che hanno delle modificazioni che gli altri non hanno io adesso faccio velocissimamente questo caso clinico se mi date una mano a uscire ok perché secondo me e ho finito sarò proprio rapidissima perché secondo me può essere utile per capire un po' quello che vi ho detto questo è un caso che mi è capitato a me a studio qualche anno fa ok aspettate vabbè ok allora questa è una bambina il caso clinico è del 2015 parlo di una bambina Carolina che è nata nel 2005 ed ha un fratello adottato una situazione frequentissima i genitori adottano un bambino perché non riescono ad avere figli dopo pochi mesi la mamma rimane incinta spontaneamente quindi ci hanno Carolina e Mario a un certo punto a due anni Carolina viene diagnosticata la celiachia e la madre è sconvolta è una donna molto passionale diciamo essere gentili e niente quando si scopre questa malattia proprio è fuori di sé arrabbiatissima immaginate questa figlia è bellissima bionda occhi azzurri è adottato questo bambino che hanno adottato è un bambino con la carnagione un po' scura quindi così i genitori sono di un buon livello sociale quindi non sono gente diciamo ignorante eccetera che succede? a un certo punto ad agosto del 2013 quindi Carolina abbiamo detto che ha scusate è del 2005 quindi nel 2013 ha circa 8 anni comincia ad avere delle crisi tonico-cloniche agli arti superiori cioè significa che c'aveva delle scosse che non controllava senza perdita di coscienza e di giorno quindi improvvisamente cominciava ad avere queste scosse siamo ad agosto la mamma è in vacanza io sono in ferie telefona il 20 agosto alla collega che mi sostituisce e la collega dice no venga signora la visitiamo la visita la visita ha un accenno di queste crisi per cui la collega gli prescrive degli esami del sangue e una visita neurologica i genitori gli fanno il prelievo ma aspettano per il neurologo e non sembrano dare molta importanza ai sintomi la collega questa cosa la preoccupa e mi telefona e mi dice guarda è strano dice questa anche perché facevano un finimondo per la febbre o per banalità una situazione del genere in cui noi stesse non sapevamo che pesci prendere loro tranquilli dice vabbè facciamo gli esami del sangue poi il neurologo vabbè sì poi ci andiamo un'altra volta per cui io dico la signora dico no richiamali e dirgli che devono andare dal neurologo e loro dice sì sì vabbè ma non ci andiamo dice però partiamo prima per il weekend e poi lunedì ci torniamo la famiglia parte va in montagna ma nella notte appunto va bene il weekend la bambina ha queste scosse anche durante il sonno e dormiva con la madre e per cui di nuovo la mamma chiama la mia collega sono fuori e la collega dice no guardi signora deve andare in pronto soccorso la situazione sta peggiorando non possiamo perdere le analisi ancora non avevamo i risultati quindi ci non mi sembra una situazione che possiamo trascurare e loro insistono che sì 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 quando tornavano sarebbero andati al bambino Gesù metto Mafalda che dice basta perché in realtà la bambina Carlotta non ne può più e quindi che fa ha una crisi ancora più forte un'ipertono a tutti e quattro gli arti trisma significa che serrava la mandibola senza mullarla e ha addirittura una perdita di coscienza di circa un minuto a quel punto finalmente si spaventano e vanno al bambino Gesù dove viene diagnosticato un'epilessia focale con crisi tonico-posturali la madre è sconvolta dall'angoscia ma la cosa che mi fa più strano come ho detto così quando viene a studio che parliamo eccetera mi dice cosa ho fatto di male per meritare tutto questo io ero stranita perché se fosse capitato a mio figlio avrei detto povero figlio mio celiaco e moccia pure l'epilessia non mi sarei preoccupata di quello che avevo fatto io e che guaio stavo passando io ma di quel giallo che passava con il ragazzino invece lei no era preoccupata di se stessa e diceva io penso che questa per me è una punizione divina proseguono gli approfondimenti diagnostici alla risonanza magnetica si evidenzia una displasia corticale frontale di questa bambina di cui non sappiamo esattamente il significato quello che vi dicevo prima i medici del bambino Gesù presumono che possa essere messa in relazione con questa crisi epilettica che aveva fanno una terapia farmacologica ma non ci dà buoni risultati tanti incontri con la madre perché questa terapia la aggiustavamo la rimettavamo la abbassavamo alzavamo non è questa chiaramente la mamma dell'immagine ma c'era di più a fine ottobre la direttrice della scuola di Carolina mi telefona e mi dice che la famiglia è stata segnalata ai servizi sociali io cado dalle nuvole nessuno aveva mai fatto una domanda di questo genere come dicevamo prima i vicini più volte avevano chiamate le forze dell'ordine per le liti furiose che avvenivano in casa e mi chiede dice ma che sta succedendo a Carolina queste crisi epilettiche ma sono crisi epilettiche ci incontriamo noi tipo il giorno dopo ci saremmo viste per fare qualcosa ma non abbiamo il tempo perché Carolina ha una crisi molto violenta a casa il padre spaventatissimo la madre non c'era la porta in ospedale in ospedale le fanno un elettroencefalogramma in urgenza mentre lei aveva una crisi non era mai successo che gliela avessero fatto mentre una crisi e si rendono conto che l'attività elettrica registrata non era compatibile con le crisi che aveva la bambina pertanto cominciano pure loro a farsi qualche domanda in più e a colloquio con la neuropsichiatra questa bambina vota il sacco c'è una madre disforica depressa molto aggressiva col marito che minaccia tutti verbalmente se non fanno quello che dice lei quindi qui in questo caso avevamo una violenza della madre sul padre sul resto della famiglia non su Carolina lei era aggressiva con l'altro figlio che gli diceva appunto gli diceva ti rimando in Bielorussia se tu non fai quello che dico io e quindi questo poveretto era terrorizzato e poi minacciava il marito che vi avrei fatto vedere cioè questo era pure un uomo alto quindi veramente sono quelle situazioni che ci hanno del paradossale però era una persona di una fragilità proprio e di una assolutamente una personalità proprio poverino assolutamente fragile e li minacciava con i coltelli cioè quindi lei abitualmente minacciava marito e figlio con coltelli aveva pure pieva piatti faceva l'ira di Dio quando le cose non funzionavano come diceva lei anche perché lei comunque aveva poi appunto un disturbo di personale psichico familiare che non curava allora capite che questo è proprio un classico caso questo si chiama disturbo di conversione pseudocrisi perché in realtà poi la bambina non c'aveva nessuna forma di epilessia nessuna malattia ma non sapeva più come dirci che stava male cioè qual era il suo disagio quindi capite questo per dire questo è un caso secondo me incredibile perché racchiude in sé gli esiti della violenza assistita il ruolo di questa bambina che era diventata praticamente lei in qualche modo il capofamiglia perché si faceva carico anche delle sofferenze del fratello ed era lei che cercava in qualche modo di compensarlo e questa donna questa coppia genitoriale inesistente dove c'era un padre che pur assistendo a tutto questo non aveva fatto nulla e ovviamente aveva esitato in questa situazione pertanto questo ecco ho finito per capire come l'ambiente esterno quello che noi immaginiamo essere qualcosa di avulso dal figlio o quando diciamo ma non c'entra niente non è proprio così cioè abbiamo proprio delle dimostrazioni come posso dire biologiche di come una serie di situazioni esterne ti portino poi a sviluppare dei sintomi pertanto e ho concluso la famiglia media di oggi come una famiglia dove gli adolescenti quando torna a casa spesso non trovano nessuno massimo c'è qualche animale domestico quando sono fortunati alle 7 della mattina se va tutto bene la famiglia sta insieme un quarto d'ora poi ognuno schizza da tutte le parti se fanno colazione qui apriamo un altro capitolo si ricompone la sera e quanto dura la cena un quarto d'ora appunto al netto del telegiornale se poi calcoliamo che la scuola è diventata una specie di tortura dove ci sono questi compiti che praticamente impegnano la famiglia la madre il padre la nonna e anche lì il genitore che anziché stare a casa col figlio parlare dedicare no dobbiamo studiare cose incredibili e chiaramente questa è la realtà che noi ci abbiamo davanti cioè noi lavoriamo con queste situazioni la famiglia media che ci si pone di fronte è questa sono sempre quindi famiglie più fragili e ricattabili c'è una fragilità affettiva di coppia abbastanza frequente e proprio insicurezza genitoriale per cui che fanno si rivolgono a noi si rivolgono ai medici si rivolgono agli avvocati si rivolgono anche perché sono anche venute meno quei riferimenti sociali di un tempo che c'era non so il prete l'amico la rete sociale si è molto impoverita leggono e leggono cose che su internet ma appunto se non hai poi un substrato su cui fondare le cose che leggi fai una gran confusione e quindi questo è quello che noi abbiamo senza voler dare giudizi di nessun genere io credo che la famiglia e penso di avervelo dimostrato queste poche slide e la famiglia intesa come chi si occupa del bambino ha un ruolo veramente grandissimo nell'accudimento e nello sviluppo delle generazioni future quindi dobbiamo fare qualcosa per tutelarla per tutelare questo nucleo che comunque è essenziale per lo sviluppo armonioso delle future generazioni ma soprattutto dobbiamo probabilmente immaginare nuovi modelli micro sociali perché è chiaro che non si può riproporre la famiglia patriarcale o matriarcale di cent'anni fa oramai la situazione che ci troviamo di fronte a vivere è questa quindi è inutile andare a dire era meglio una volta no questo noi abbiamo dobbiamo cercare di recuperare con quello che noi abbiamo davanti trovare un sistema di integrazione del nuovo e del vecchio perché effettivamente c'è proprio un momento di grande confusione e disorientamento e noi che svolgiamo delle professioni che comunque in qualche maniera abbiamo delle responsabilità dirette e indirette dobbiamo farcene carico in maniera secondo me molto chiara grazie io ringrazio davvero moltissimo la dottoressa Valentina Grimaldi per la sensibilità con la quale ha affrontato questi argomenti e credo ci abbia ispirato anche rispetto delle riflessioni rispetto alla nostra vita personale quello che viviamo nella nostra famiglia nelle nostre relazioni mi veniva in mente mentre in realtà ci stavo già riflettendo a proposito di quello che accade con il dialogo ma a proposito di quello che diceva soprattutto perché si tratta di un collega della dottoressa un medico accademico austriaco Felix Unger lui che è anche presidente dell'accademia delle scienze io sono sempre aperta all'Europa dell'accademia europea delle scienze delle arti e lui a proposito della famiglia in realtà della vita e quindi anche della famiglia parla di aritmetica umana no? cioè quella aritmetica per cui uno più uno non fa due ma fa tre quindi in effetti quello che accade no? si uniscono due persone e generano una terza magari una quarta no? e quello è il frutto della somma è un in più che insomma contiene la propria individualità ma è anche il frutto della somma degli altri due sì dico in effetti è verissimo perché ti porti dietro proprio tutte le problematiche appunto problematiche il bene e il male dei vissuti di entrambi sì quindi l'importanza di alimentare questo bene no? che è una responsabilità personale ma anche una responsabilità per tutto quello che noi creiamo e lui parla di questa cosa anche a proposito del dialogo quindi per immaginare un dialogo virtuoso che non è uno scontro una conflittualità lui ne parla a proposito della tolleranza ma io penso che poi in effetti la tolleranza è una componente del dialogo quindi un incontro di due punti di vista differenti nei quali non si cerca di vincere di creare una vittoria l'uno sull'altro ma si cerca di trovare un terzo punto di vista quindi questa aritmetica umana per cui poi ognuno porta insomma porta il suo contributo e si apre una terza via in realtà è quello che stiamo cercando di fare noi quello che siamo proprio il tipo di dialogo empatico che dovremmo sviluppare e che abbiamo l'obiettivo di realizzare con questa nostra esperienza che veramente anche questa bellissima occasione che Leonora ci ha eh sì perché comunque l'occasione di integrare tutte queste professionalità anche questa è una forma di aritmetica umana no? che noi siamo sempre portati a pensare guardiamo in maniera molto ehm un po' come a compartimenti stanni no? noi siamo giuristi e vediamo le cose dal punto di vista del giurista invece abbiamo l'occasione qui di eh di realizzare un'apertura diversa e quindi di eh sommare eh quindi quanti a che numero possiamo arrivare sommando e ci sono domande no nessuna domanda sì ma ti vuoi avvicinare parli al microfono così guarda io ti spengo tu accendi il Olga Anastasi famiglia sana famiglia disfunzionale e il terzo tipo famiglia ecco quello che mi chiedevo era c'è un un passaggio ecco non siamo sempre solo statici assolutamente no eh c'è proprio una grande variabilità un grande andare avanti e dietro uno può essere disfunzionale in un momento e funzionale in un altro diciamo in linea di massima eh c'è una sorta di indirizzo medio che uno segue però c'è una grandissima andare avanti e indietro anche perché l'uomo è così cioè noi siamo così e per l'appunto coppia separata quanto eh la il genitore che cerca di essere sano eh compensa o o o altera cioè quanto il genitore disfunzionale eh interferisce con un'educazione che tenterebbe di essere sana sì infatti eh influisce tanto influisce tanto a me poi si rischia anche di arrivare a situazioni che se il genitore è disfunzionale disfunzionale perché totalmente assente quel ragazzo in qualche modo prende a modello un altro uomo un'altra donna però quel genitore lì è sempre il genitore e quindi spesso poi dentro di sé si trova a dover articolare due figure maschili o femminili che non sempre chiaramente collimano quindi sì chiaramente gli creiamo ulteriori difficoltà però quello che io dico i ragazzi e i bambini hanno una grande resilienza termine strausato ultimamente però è vero cioè i bambini hanno una grande resilienza e quindi il problema è che spesso queste situazioni escono fuori in adolescenza cioè tutto è andato bene fino a un certo punto poi in adolescenza che è il momento della crisi lì si fanno un po' i conti con queste situazioni grazie grazie anche per questo sca oh guarda sì l'avete sentita la domanda? ok perfetto allora diciamo che quando chi si occupa un po' di diritto di famiglia sa che queste sono situazioni che purtroppo soprattutto nelle giudiziali particolarmente conflittuali inevitabilmente arrivano all'attenzione soprattutto se ci sono figli minori proprio perché cominciano a dare quei segnali di cui parlava la dottoressa prima e allora la questione è innanzitutto capire perché se noi parliamo di un collega che assiste la medesima coppia ma difficilmente perché se noi siamo in una coppia particolarmente conflittuale saremo già in un ambito di conflitto dove ci sarà sicuramente una controparte e quindi una giudiziale in atto detto questo le problematiche dei minori naturalmente poi vengono alla luce e questa è una cosa però che diciamo io ho imparato nel tempo quando effettivamente ci si trova di fronte a una situazione che può in qualche modo a noi insospettirci perché effettivamente diciamo c'è una risposta che è o estremamente conflittuale o quant'altro insomma anche soggetti eccessivamente passivi come possono essere invece i clienti che hanno subito abuso per troppo tempo sicuramente diciamo rivolgersi a uno psicoterapeuta consigliare una psicoterapia questo però se noi già stiamo in giudiziale è qualcosa che inevitabilmente anche il magistrato in qualche modo diciamo comincia perché perché noi siamo qui poi alla fine perché la stessa autorità giudiziaria ha cominciato a rendersi conto che giudice e avvocati rispetto a determinate situazioni estremamente conflittuali con minori chiaramente necessitano di altre professionalità e allora spesso o vengono consigliate delle consulenze tecniche d'ufficio nelle quali poi si nomina dei consulenti di parte anche se quella non è una vera e propria terapia chiaramente oppure una volta emesso il decreto allora a quel punto magari vengono indirizzati verso un coordinamento genitoriale però la mia esperienza personale questa o il tribunale di Roma io ho una coppia che dire conflittuale poco e già in consulenza tecnica era emersa una problematica di tipo psicologico depressivo eccetera in realtà questo coordinamento genitoriale non ha funzionato benissimo nel senso che probabilmente non sono stati effettivamente accompagnati come dovevano e in effetti il bambino che adesso ha 6-7 anni ha delle difficoltà grandissime quindi noi avvocati sicuramente anche da un punto di vista deontologico e anche perché come diceva appunto la collega Val sempre validissima nel rapporto avvocato cliente se abbiamo una problematica di questo tipo anche nella gestione della linea di difesa non è facile quindi è chiaro che dobbiamo in qualche modo l'attenzione dobbiamo portarla a chi ci possa anche dare delle risposte rispetto a determinati comportamenti però purtroppo quelle che sono le strutture di cui abbiamo poi che abbiamo a disposizione vi ripeto coordinamento genitoriale servizi sociali che poi sono sempre estremamente uberati perché sul territorio sono un tot numero e in realtà poi la domanda invece è tre volte tanto purtroppo queste famiglie in realtà perlomeno che quella che è la mia esperienza attuale non sono accompagnate come dovrebbero e quindi poi chiaramente il minore ne risente quindi questo sia per il tribunale civile che per il tribunale per i minorenni quindi in questo ne figli ne figli astri perché penso che insomma se avete un po' l'immagine di esperienza di questo tipo oltre per le tempistiche anche per il tipo di sostegno che viene dato quindi noi sì anche per deontologia anche per una questione proprio anche di strategia nostra difensiva se c'è una problematica di questo tipo dobbiamo comunque in qualche modo portarla all'attenzione anche perché prima o poi riesce fuori cioè nel senso non ci si può più nascondere dietro al dito detto questo purtroppo però gli strumenti a disposizione da un punto di vista giuridico sono quelli che sono e funzionano come funzionano e poi un altro elemento importante che è il lato economico perché i coordinamenti genitoriali quando non sono presi dagli assistenti sociali ma sono per esempio dati in incarico all'istituto di psicologia eccetera spesso richiedono anche un pagamento e molte coppie non possono farlo quindi le problematiche diciamo non sono non sono di poco momento rispetto appunto a quello che ha sollevato giustamente il collega grazie Eleonora io ora le do modo di accedere alla postazione vi reintroduco la dottoressa Monica Letta che abbiamo già conosciuto forse due lezioni due lezioni precedenti è stata con noi ci ha parlato di questa coesistenza del bene e del male io con la mia insomma tanto ormai ho condiviso il fatto che pratico il buddismo noi abbiamo questo principio della non dualità di bene e di male quindi mi colpiva moltissimo insomma il fatto che poi alla fine tutte le ricerche dell'essere umano riconducono alle stesse conclusioni molto spesso quindi è stato molto molto bello avere questo suo contributo lei ve la ripresento psicologa psicoterapeutica psicoterapeuta scusate della famiglia e dell'età evolutiva ricercatrice dell'associazione per la ricerca in psicologia analitica non voglio commettere errori con lei oggi affronteremo il tema della costruzione dell'identità nelle varie etappe dell'età evolutiva grazie ben trovata ok allora passiamo dal generale al particolare con la dottoressa Grimaldi abbiamo visto il generale adesso io mi concentrerò sul singolo per vedere un po' soprattutto quando si dovesse trattare di decidere appunto dell'affidamento di un bambino oppure delle sorti di un ragazzo che è entrato nel tunnel della devianza commettendo anche atti criminali ecco per prendere queste decisioni può essere utile capire come è cresciuta questa persona come l'ambiente ha influenzato questa crescita e in qualche modo quanto può essere stato importante l'effetto traumatico dell'ambiente ho iniziato con questa frase perché mi piace molto avevo fatto un intervento parlando di ombra e del lato scuro di ognuno di noi qui c'è il lato scuro dell'infanzia la nostalgia scorre profonda nella psiche umana trasforma sane insoddisfazioni nel desiderio atavico di una condizione più semplice di un'infanzia di innocenza e felicità ricordata in tutta la sua cristallina purezza proprio perché non è mai esistita cioè l'infanzia noi tendiamo a idealizzarla moltissimo ma in realtà è un momento difficilissimo per il bambino è un momento in cui è esposto a tantissimi rischi ed è un momento in cui fa degli sforzi assolutamente sovrumani soprattutto perché la nascita psicologica non coincide con quella biologica anche il corpo necessita di una serie di tappe di sviluppo e di tanti aggiustamenti la psiche ancora di più perché quando il bambino nasce non ha un'identità psichica non ha un senso della sua esistenza ed è totalmente nelle mani dell'adulto allora Spitz che ha fatto molte ricerche sugli orfanotrofi parlava della madre io parlerò molto della madre in realtà dovrei usare il termine caregiver cioè l'agente di cure però nella maggior parte dei casi è la madre e utilizzerò il termine madre pur essendo convinta anche perché sono state fatte tante ricerche a riguardo che non necessariamente la figura femminile rappresenti l'agente di cure migliore questa è una questione molto sociale e culturale no? l'agente di cure migliore lo vedremo quando andremo a vedere appunto quali sono le cure che vanno prestate è la persona più equilibrata e adeguata possibile non necessariamente con una donna e appunto Spitz parla della madre come di un io ausiliario e Winnicott che è stato un grandissimo studioso uno dei pionieri dell'infanzia parla di madre sufficientemente buona e preoccupazione materna primaria come organizzatori simbiotici che agevolano l'individuazione del bambino favorendone la nascita psicologica perché sono organizzatori simbiotici perché all'inizio il bambino il neonato è in uno stato di totale simbiosi con la figura materna e l'adulto la figura materna in questo caso sufficientemente buono questo è un termine che userò moltissimo perché gli eccessi sia nell'ambito della gratificazione che nell'ambito della frustrazione sul piano psichico sono sempre dannosi deve organizzare una differenziazione dall'unità simbiotica di nascita psicologica si è occupata moltissimo la Mahler che in qualche modo ha stabilito i punti fondamentali su cui poi poggia la teoria dell'attaccamento di cui ha parlato la collega all'inizio nelle prime 4-5 settimane nel primo mese il bambino vive in una condizione di autismo normale autismo nel senso la definizione proprio di autismo è una problematica sul piano della relazione e della comunicazione il bambino non è in relazione con la madre perché non è diviso dalla madre in realtà come vedremo delle ricerche successive hanno un po' aggiustato questo concetto nel senso che il bambino qualche competenza relazionale ce l'ha ma veramente basica per cui all'inizio è proprio completamente incentrato sui suoi ritmi fisiologici e non investe nella relazione fino al quarto mese c'è la fase simbiotica anche qui il termine simbiotico non è precisissimo perché nella simbiosi dovrebbe esserci una dipendenza da entrambe le parti simmetrica mentre la dipendenza è del tutto asimmetrica in questo caso e la Mahler ci parla di fusione somatopsichica allucinatoria onnipotente cioè il bambino è del tutto fuso con la madre che risponde o con il caregiver che risponde alle sue esigenze fisiologiche primarie e comincia piano piano ad avere un'idea dell'agente esterno da cui riceve questo tipo di di cura e di contenimento dal quarto mese in poi inizia il processo di separazione individuazione che è quello che ha a che fare con la teoria di Bolbi soprattutto allora la prima tappa è sviluppare un'identità corporea ricordiamoci che il bambino queste cose ci servono a capire quanto una madre sana è importante quanto un adulto è importante non ha un senso dei propri confini e del proprio corpo i confini psichici partono dal confine dall'immagine mentale del corpo non avere confini psichici non sviluppare confini psichici adeguati porta alla psicosi quindi il primo passo è l'immagine corporea la rappresentazione del proprio corpo come a sé stante poi c'è la sperimentazione cioè il bambino comincia tra l'ottavo e il quattordicesimo mese a allontanarsi alla madre per sperimentare questo mondo esterno a lui perché lui è qualcosa che può staccarsi dalla madre si riavvicina periodicamente alla madre per verificare che la madre la famosa base sicura di Bowlby ci sia e una volta che ha fatto questa serie di movimenti di separazione di riavvicinamento sviluppa ma è un processo che dura per i primi tre anni di vita l'idea mentale della costanza dell'oggetto libidico cioè capisce che la mamma c'è anche quando non la vede quando i bambini si emozionano tanto perché ci si nasconde e poi si ricompare almeno fino ai tre anni è perché per i bambini si scompare veramente il loro pensiero è molto concreto stanno imparando che anche quando non vedono una cosa quella cosa c'è e torna usando proprio le parole della Mahler allora la prima tappa è quella dell'io corporeo quindi lo spostamento della carica prevalentemente proprio scettiva interocettiva interna il neonato all'inizio tutto sui suoi bisogni fisiologici sulla fame sul ritmo sonnoveglia verso la carica senso-ripercettiva periferica segna un progresso fondamentale nello sviluppo dal punto di vista dell'immagine corporea prerequisito essenziale per la formazione dell'io corporeo nella mente si forma l'io corporeo poi che succede? che gradualmente nella fase di separazione e riavvicinamento l'attenzione percettiva rivolta all'esterno si integra con una memorizzazione crescente della comparsa e scomparsa della madre e di esperienze buone e esperienze cattive insieme le esperienze cattive lo diceva la dottoressa prima devono esserci devono esserci esperienze buone le giuste esperienze buone le giuste frustrazioni le giuste esperienze cattive l'aspettativa che comincia a svilupparsi nel modello operativo interno è che prima la madre e poi il bambino da solo possa essere in grado di proporre una soluzione valida alle esperienze negative ora quindi la capacità di percepire il proprio corpo percepire le proprie esigenze fisiologiche e via via andando avanti percepire le proprie emozioni capirle e riuscire a gestirle elaborarle e gestirle è tutta nell'interazione col caregiver nasce nell'interazione col caregiver cioè l'autoregolazione e pensiamo all'autoregolazione emotiva pensiamo a tutti i bambini iperattivi pensiamo alla tendenza all'istintualità anche di molti adolescenti che non hanno una capacità di regolazione autonoma delle proprie emozioni questa autoregolazione nasce nella diade madre-bambino cioè nella relazione diadica nell'interazione madre-bambino a proposito dell'aritmetica qui questa è una relazione estremamente intricata perché da un lato è la relazione con la madre che insegna l'autoregolazione dall'altro piano piano dal livello di autoregolazione interna dipende anche l'interazione con la madre cioè per farvi capire un bambino autistico ha una capacità di autoregolazione di un certo tipo la reazione della madre non potrà mai essere come quella la reazione di una madre che si trova di fronte a un bambino normale quindi è anche il livello progressivamente acquisito dal bambino normale o patologico di autoregolazione che condiziona la reazione della madre e crea un'interazione diversa torniamo a quello che dicevo prima cioè al fatto che negli anni 90 le ricerche della Mahler sono degli anni 70 negli anni 90 l'infant research ha messo in discussione la concezione del neonato come tabula rasa e questa tesi avvalora l'idea dell'autoregolazione che si apprende nella relazione la relazione è possibile già con il neonato perché il neonato ha competenze relazionali la più importante è quella che ha scoperto Melzoff che è la percezione trasmodale delle corrispondenze è stato osservato che già a 42 minuti dalla nascita i bambini riescono a imitare l'espressione del volto del modello adulto e a fare un confronto tra quello che vedono nel modello adulto e quello che sentono proprio oggettivamente nel proprio corpo attraverso questi continui confronti che crescono di livello man mano che cresce anche la competenza emotiva il bambino impara anche le emozioni la gioia la tristezza il dolore la percezione trasmodale delle corrispondenze è stata studiata solo sul piano del volto e della delimitazione dell'espressione facciale però molto probabilmente può essere estesa anche a tutti altri aspetti a tanti altri aspetti della relazione come per esempio il timing interpersonale nella relazione madre-bambino nella diada è molto importante anche il ritmo gli studiosi della primissima infanzia parlano di sintonizzazione cioè deve esserci proprio una sorta di sincronia la madre dovrebbe essere in grado il caregiver dovrebbe essere in grado di rispettare i tempi del bambino di attivarlo quando il bambino è poco attivo di disattivarlo quando è troppo attivo con una certa ritmicità che tenga presente che prevede insomma un adeguato senso dell'altro quindi il fondamento della primissima costruzione della propria identità corporea e psichica e dell'acquisizione delle competenze emotive e relazionali comincia dalla relazione col caregiver dicono B.B. e Lachman che sono stati gli studiosi principali proprio di questa regolazione reciproca della DIA dei madre e bambino che la capacità di rispondere e di avere rapporti sociali dipende non solo dall'input proveniente dal partner e dalle proprie risposte a esso ma anche dalla regolazione dello stato interno di entrambi i partecipanti e la regolazione dello stato interno si apprende dall'inizio dai primi mesi di vita ognuno di noi sia per aspetti temperamentali genetici sia per acquisizioni dovute all'esperienza all'educazione all'ambiente la dottoressa prima ha parlato di epigenetica ha una propria capacità di regolare il livello di attivazione di arousal il livello di di tensione il livello noi sappiamo regolare la nostra ansia in una situazione di normalità la nostra attivazione la nostra concentrazione e questa capacità personale influisce poi anche sulle competenze relazionali condizionando la relazione stessa cosa accade quando la mamma è affetta da psicopatologia o è inserita in un contesto tale da rendere impossibile un adeguato caregiving allora ci sono tante situazioni possibili in questo caso io ho considerato solo l'alerazione iperregolata e quella iporregolata quella iperregolata è quella della madre ansiosa tipica che è intrusiva che è invadente che proietta le proprie esigenze sul bambino senza essere capace di percepire quelle del bambino e quindi può creare tutto un ventaglio di possibilità dall'ansia eccessiva l'insicurezza problemi di tipo narcisistico anche una totale chiusura rispetto alle emozioni che lo dirò in seguito è una cosa particolarmente rischiosa soprattutto per quanto riguarda il consumo di sostanze stupefacenti la madre che iporegola la madre depressa immaginate una madre depressa parliamo della depressione postpartum ritorniamo alla regolazione nella diade madre bambino il volto di una madre depressa è fisso non si può sintonizzare in nessun modo quella famosa percezione transmodale delle corrispondenze come si fa se la mamma ha sempre la stessa espressione una mamma io ho fatto la volontaria nel centro di antiviolenza c'erano tantissime madri depresse che avevano avuto gravi problemi alimentari oppure che avevano tentato il suicidio e ho visto i figli di queste mamme anzi in particolare uno di questi bambini ha significato per me la scelta di non fare più la volontaria nel centro perché era un bambino vi posso garantire totalmente esregolato e nello stesso tempo totalmente isolato dalla relazione correva schizzava come una pallina era un bambino di tre anni da una parte all'altra ma era poco capace di attenzione e di contatto oculare e non sapeva assolutamente stare nella relazione la madre era gravissima e la cosa che mi ha fatto scappare è stato proprio sapere che la madre fu aiutata tantissimo a trovare un lavoro le fu dato sostegno anche legale gratuito poi a un certo punto però tornò dall'uomo che la picchiava riportò il bambino lì io non volevo che il bambino venisse riportato lì in questo caso la difesa un po' ideologica della madre in quanto tale mi ha fatto prendere la decisione di mollare perché ecco uno dei problemi è proprio la difesa ideologica della figura materna a tutti i costi e della donna a tutti i costi cioè non sempre io ho visto padri veramente anche nel mio lavoro lo vedo quotidianamente molto più affettuosi molto più empatici delle madri e questo è un problema culturale credo anche dell'Italia credo che anche la religione cattolica abbia il suo peso in questo queste sono la situazione iporegolata e quella iperregolata sono proprio quelle basiche poi ce ne sono di caotiche ultra irregolari che provocano patologie gravi entriamo là in un ambito borderline psicotico quindi possono esserci delle informazioni da parte del caregiver totalmente incoerenti che impediscono totalmente lo sviluppo anche di un senso di identità abbastanza circoscritto e quindi sconfiniamo dalla nevrosi nell'area borderline di confine fino alla psicosi qui questa è la prima tappa fino ai 3-4 anni rispetto alla costruzione dell'identità e a un primo abbozzo di personalità poi c'è una grande un bel un bel pezzo d'anni insomma prima di arrivare all'adolescenza che è il momento in cui si rimette di nuovo in discussione pesantemente l'identità che è la fase della latenza anche dal punto di vista sessuale dopo il famoso complesso di tipo il bambino si distrae dalle sue identificazioni anche sessuali e è la fase dello sviluppo cognitivo la fase più significativa mi riaggancio a quello che diceva la dottoressa su quello che viene detto ai bambini di 3 anni forse uno schemino semplice sulle fasi dello sviluppo cognitivo proprio quelle classiche di piaget ai genitori andrebbe fornito perché da 0-2 anni periodo senso motorio proprio non capiscono niente capiscono molto poco non hanno concetti astratti non è per svalutare il bambino ma per informare il genitore è una fase di egocentrismo assoluto del bambino esiste solo lui e fa le sue sperimentazioni fisiche che sono importantissime faticosissime perché anche prendere confidenza con la propria identità corporea non è facile però non ha concetti astratti tra i due sette anni c'è un periodo preoperatorio il pensiero è ancora estremamente concreto c'è il gioco simbolico ma il pensiero è concreto io ho visto dei papà dire a bambini di tre anni che scappavano in strada e che non riuscivano a tener fermi hai fretta di tornare a casa ti proietti sempre sul futuro stai nel presente ero seduta al bar e ho detto un discorso filosofico a un bambino di tre anni però vi assicuro che veramente parlano a bambini piccoli come se fossero quando ha detto stai nel presente ho detto sei un genio sei veramente scemo che non è possibile ancora tra i sette e i due dici anni diciamo che la capacità di astrazione si comincia a sviluppare però il pensiero è ancora abbastanza concreto vediamo anche da quello che possono fare a scuola con la matematica così che le capacità logiche si affinano però il pensiero astratto vero e proprio il ragionamento ipotetico la deduzione l'induzione stai nel presente dopo i dodici anni si dice perché l'idea di presente e proiezione nel futuro insomma è una cosa che va in là è il periodo che piace e definisce come operatorio formale insomma formale perché finalmente c'è l'astrazione questo è importante dirlo perché tutta la crisi adolescenziale che ci sarà sulla ricostruzione dell'identità e sulla strutturazione della personalità si potrà valere questa volta di un pensiero astratto e quindi di tutt'altre capacità quindi la prima fase di costruzione di un abbozzo di identità e di identificazione semplicemente identità corporea identificazione per lo più sessuale con il genitore dello stesso sesso è una fase in cui il pensiero è egocentrico non si comprende lo stato dell'altro sincretico si mette tutto insieme schemi globali realistico oggettivo io penso ciò che vedo piano piano però dai quattro anni in poi piano piano questo va ricordato ai genitori però molto gradualmente se il caregiver è equilibrato sintonizzato e adeguatamente responsivo nasce una cosa fondamentale fondamentale soprattutto rispetto al problema di cui vi parlerò dopo che è un problema psicosociale e che è il disturbo narcisistico è la nascita della teoria della mente della metacognizione cioè piano piano il bambino che all'inizio è tutto orientato su se stesso comincia a capire che pure gli altri hanno una mente e che pensano in base alla loro mente quindi piano piano si può chiamare mentalizzazione è stata chiamata in tanti modi metacognizione funzione del se riflessivo bene o male comunque quello che ci interessa dire è che il soggetto capisce che ha degli stati mentali che questi stati mentali ce l'ha pure l'altro che il proprio pensiero è una cosa propria stratta e che il pensiero dell'altro vale allo stesso modo è che bisogna orientarsi nella relazione tenendo conto che si confrontano due menti perché questo sia possibile la madre deve essere non la madre depressa ansiosa agitata completamente incapace di percepire l'altro come la madre del caso clinico che abbiamo appena visto la madre deve insegnare attraverso la sua empatia e la sua capacità di concepire lo stato del bambino deve insegnare al bambino a fare la stessa cosa quindi il bambino lavora sulla costruzione dell'identità identità corporea e la sovrappone a quella genitoriale prevalentemente dello stesso sesso adesso non apriamo un capitolo su quanto la bisessualità adesso sia diffusa perché non ne usciamo l'adolescente deve superare l'identificazione con i genitori per trovare finalmente se stesso l'adolescenza è considerata una malattia fisiologica vera e propria per Marcelli e Bracogné che hanno scritto un trattato di psicopatologia che per noi è un manuale di riferimento sia dell'infanzia che dell'adolescenza definiscono l'adolescenza come un momento temporaneo di squilibrio di rapidi cambiamenti che rimette in questione l'equilibrio normale o patologico del soggetto la sua evoluzione è aperta variabile e dipende sia da fattori interni che esterni si rimette in gioco veramente tutto tant'è vero che si comincia col corpo il corpo cambia stavolta matura sessualmente in maniera definitiva tant'è vero che Bloss afferma che l'essenza dell'adolescenza consiste nella transizione da un'esistenza non sessuale c'era stata la fase di latenza in cui il poverino si era impegnato a far crescere e a far sviluppare la propria intelligenza quindi da un'esistenza non sessuale a un'esistenza finalmente sessuale il pensiero è veramente complesso adesso perché l'accesso al simbolo è pieno l'accesso all'astrazione è totale e quindi può esserci anche dubbio e incertezza il bambino egocentrico non ha nessun tipo di dubbio quello che pensa è reale la capacità di generalizzare tra l'altro permette all'adolescente di operare ad un meta livello cioè l'adolescente può costruire schemi di sé sopraordinati che contengono un'unità di elementi diversi di schemi subordinati e può unire gli opposti all'interno di questi schemi generali perché poi ho citato la Klein ho parlato di posizione depressiva mi riaggancio anche al discorso che avevo fatto sull'ombra per chi c'era perché a un certo punto noi possiamo mettere insieme il buono e il cattivo le gratificazioni le frustrazioni dobbiamo mettere insieme il buono e il cattivo e per farlo dobbiamo passare attraverso una posizione depressiva la posizione depressiva è un termine proprio kleiniano non è che bisogna necessariamente entrare in una situazione di depressione clinica però concepire che la vita è anche brutto che è anche delusione che è anche frustrazione che è anche dolore certamente è un compito che è particolarmente pesante per l'adolescente sul piano emotivo il cervello cambia e sono andata troppo avanti allora mentre fino ai 12 anni la materia grigia aumenta esponenzialmente dopo i 12 anni succede il contrario soprattutto nei lobby frontali e nella corteccia prefrontale cioè comincia a esserci un decremento della sostanza grigia questo non significa che la funzionalità diventa inferiore quello che succede è che c'è un aggiustamento a livello di plasticità neuronale aumenta la sostanza bianca e aumenta la velocità di trasmissione però ricordiamoci che quest'area cioè la parte della corteccia prefrontale che è tornato indietro un attimo ci sono dei doppioni ecco qua la corteccia frontale e prefrontale è devotata al controllo degli impulsi cioè l'adolescente fino ai 18-20 anni non controlla gli impulsi anche perché proprio a livello cerebrale stanno cambiando delle cose noi parliamo di passaggio all'atto con gli adolescenti quando c'è il rischio di azioni pericolose il suicidio l'uso di droghe la violenza contro etero diretta contro altre persone noi parliamo di un soggetto che è molto molto più tendente all'istinto e all'impulso di un adulto io quando ero ancora giovane fomentata e appassionata mi arrabbiavo tanto quando cito questo perché so che vi occupate anche di vi occupate di penale di situazioni difficili quando i media parlavano nel caso in cui l'adolescente avesse ucciso un fratello o il genitore facevano proprio un processo da inquisizione a questo soggetto nel caso contrario cioè quando è la madre che uccide i figli soprattutto la cosa e succede tantissime volte non viene neanche citata io mi ricordo il caso di Erika che proprio fu veramente etichettata con la lettera scarlatta non voglio giustificare assolutamente ma paradossalmente è più normale che un adolescente faccia un'azione del genere rispetto a un adulto perché l'adolescente tende di per sé all'azione istintiva è pericoloso per sé stesso da questo punto di vista questo non ci interessa l'ho già detto il passaggio all'atto tra l'altro oltre ad avere delle basi fisiologiche serve anche per in qualche modo intervenire laddove non ci sono proprio altri strumenti l'adolescente è veramente una situazione in cui l'identità è completamente da ristrutturare il corpo è cambiato deve trovare la sua identità sessuale deve capire chi è nella vita si fa le domande sui massimi sistemi sta cominciando ad acquisire nuove capacità di ragionamento che sono pesanti perché il dubbio l'incertezza la scoperta del male è pesante e quindi il passaggio all'atto a volte dovremmo intenderlo anche come una modalità strutturante che consente di venire a patti con contenuti penosi per cui non esistono ancora secondo Bloss l'adolescenza è un secondo processo di separazione individuazione utilizza proprio i termini della Mahler perché è caratterizzato da continue transizioni e fluttuazioni dell'investimento libidico da vecchi a nuovi oggetti allora il problema principale è che deve elaborare il lutto rispetto alla relazione che aveva con gli oggetti primari deve staccarsi dai genitori necessariamente e questo è effettivamente il lutto deve elaborare un lutto anche rispetto al bambino che non c'è più e che è sostituito da un quasi adulto con un corpo che comincia a essere sessuato in tutto questo lutto e in tutto in tutto questo rimaneggiamento che è veramente quasi uno stato di malattia mentale deve essere dovrebbe essere l'adolescente in grado di fluttuare tra l'indipendenza sempre separazione e riavvicinamento la separazione e l'indipendenza e il riavvicinamento a degli adulti solidi che diano messaggi coerenti io mi vorrei riagganciare alla domanda che era stata fatta prima se i genitori separati hanno criteri educativi completamente diversi l'incoerenza è gravissima cioè per la mente sono meglio due genitori violenti tutti e due due genitori che il ragazzo vive entrambi a seconda della casa in cui si trova che danno informazioni completamente opposte perché per la mente è più facile inquadrare un significato univoco come anche più facile paradossalmente una violenza più facilmente riconoscibile dell'aggressività passiva della violenza subdola del doppio messaggio il doppio messaggio porta alla psicosi nel caso di bambini abusati è molto più facile intervenire quando la violenza è stata davvero brutta e riconoscibile come tale rispetto a quando è stata subdola cioè l'aggressore ha fatto dei regalini era lo zio era molto buono faceva anche tanti complimenti perché non ci scordiamo che quando si subisce un abuso si possono anche provare delle sensazioni quando è un bambino delle sensazioni positive quindi se il personaggio non è aggressivo se il personaggio abusante in questione non è aggressivo non è violento il bambino si trova anche a chiedersi se l'ha determinata lui la cosa se non l'ha determinata lui quello è buono mi fa dei complimenti quindi quando i genitori separati danno dei messaggi opposti bisogna chiedere aiuto a uno psicologo per il ragazzo perché è davvero difficile mettere insieme i pezzi il problema attuale tra l'altro che ha a che fare moltissimo con soprattutto secondo me con il cambiamento che c'è stato anche della vita sessuale con la violenza che spesso si riscontra in ambito sessuale che più che un lutto oggettuale adesso l'adolescente deve vivere un lutto narcisistico perché i figli sono cresciuti come creature onnipotenti e perfette cioè quella alternanza di gratificazione e frustrazione non c'è per lo più si tende alla gratificazione o al disimpegno totale però il ragazzo in quel caso non si confronta con la frustrazione la tolleranza alla frustrazione forse è l'emozione più importante in assoluto e Pietro Poli Charmé dice questa cosa che la dottoressa Grimaldi avrà sentito un centinaio di volte da me però non si vede tutta ma vabbè si è spaginato vabbè non importa però è una cosa che è molto molto chiara io cito lui perché quando lo dico io non conta niente ma se lo dice una persona importante secondo me il messaggio arriva si tratta di un processo estremamente doloroso è spesso imprevisto per l'ex bambino che scopre ora che è preadolescente di essere stato malamente informato e di aver avuto più dei fans che dei genitori preparati ad avvertire che non esistono bambini speciali e particolarmente preziosi destinati a un singolo ed esclusivo destino esistono invece dei bambini come tutti gli altri che è già moltissimo perché a volte non si riesce neppure a raggiungere questo livello essenziale di funzionamento destinati a diventare grandi ed affrontare proprio in virtù di questo evento naturale una serie di prove i genitori di adesso si vede per l'atteggiamento che hanno nelle scuole anche con gli insegnanti l'atteggiamento educativo sono genitori che hanno tutti figli super intelligenti sveglissimi che non vengono capiti dagli altri perché loro sanno tutto che non possono essere frustrati ho letto su un giornale che una mamma si era lamentata con la maestra perché i colori rosso e blu della penna erano umilianti usati per le correzioni erano umilianti umilianti sì per il bambino quindi non c'è una preparazione graduale ad affrontare le frustrazioni del mondo esterno parlando la scorsa volta con le colleghe mi dicevano che i ragazzi entrano al magistrato e gli dicono ciao questo è un problema serio perché è un problema anche sociale che ha a che fare con la mancanza del padre inteso come autorevole non come autoritarismo ma come autorevolezza come contenimento come logos come regole quindi crescono come bambini onnipotenti diventano adolescenti narcisisti e fragilissimi che non sanno stare in maniera completa e integrata nella relazione tra l'altro che succede che siccome i genitori fanno i genitori io li capisco hanno anche tanta paura perché adesso pare che essere autorevoli sia una violenza incredibile quindi leggono tanti libri e sono spaventati e hanno un'ansia da prestazione terribile quindi li capisco tanto però in questo questa loro ansia da prestazione spesso li porta veramente a un disimpegno e a non attivare veramente quel processo lento di regolazione reciproca che permette di arrivare piano piano alle emozioni complesse con competenza cioè i ragazzi quello che si diceva il dolore queste cose non vengono esposti da genitori capaci alle emozioni all'elaborazione delle emozioni quando noi non sappiamo pensare le emozioni verbalizzare le emozioni noi siamo a rischio di uso di sostanze perché questa incapacità noi la chiamiamo l'essitimia è una cosa seria e di fronte allo stato di attivazione fisiologico che ci sconvolge se non possiamo sopperire con dei mezzi cognitivi ed emozionali cerchiamo una cura quindi questa questa mancanza da parte delle figure genitoriali sia del contenimento paterno sia della capacità materna di esporre la frustrazione è un problema serissimo perché questo è il modo con cui si impara anche a vivere e a pensare le emozioni la relazione con l'oggetto è diventata feticistica e qui pensiamo all'oggetto sessuale anche quando non si tratta di stupri i ragazzi vivono una sessualità estremamente scissa non sono capaci di integrare le emozioni e i sentimenti con il corpo tramite pazienti tossici io ho scoperto che a San Lorenzo spacciano il Viagra agli adolescenti perché per avere il Viagra perché per avere una relazione quando escono con una ragazza relazione verbale devono essere strafatti dopo hanno paura di non reggere la prestazione ricordiamoci anche che questa è l'epoca del porno gratuito è già un'epoca di immagine di prestazione e di esteriorizzazione di tutto prima c'era il telefono erotico arrivavano bollette stratosferiche la gogna pubblica adesso da preadolescenti accedono ai porno e si confrontano con gli attori porno quindi prendono il Viagra perché la prestazione deve essere attore porno e io lavoro con ragazze che mi dicono anche le ragazze di essere più preoccupate di star bene durante l'atto sessuale di essere carine che dell'atto sessuale stesso quindi l'oggetto relazionale è svuotato di affetti e di vitalità e con esso si instaura una relazione feticistica Ricalcatica adesso è diventato famoso anche se lo preferisco nella versione di Crozza dice a questo proposito che non c'è più assunzione etica del proprio desiderio ma nemmeno la sua delega nevrotica si assiste piuttosto all'annullamento alla cancellazione all'aggiramento e alla negazione c'è una grande patologia del desiderio ci sono tante patologie sessuali adesso e nel momento in cui l'altro è un oggetto e nel momento in cui non si integra il corpo con la sessualità e nel momento in cui nell'adolescenza c'è una grossa tendenza all'agito all'impulsività si capisce che è facilissimo trasformare il sesso in un'esperienza violenta c'è una dissociazione questo è importante tra etica e sessualità perché a livello virtuale tutto è possibile sta cambiando anche il porno nel senso che prima erano porno insomma nei limiti delle fantasie adesso va molto di moda il porno violento perché tra l'altro la fruizione è talmente elevata e talmente alla fine si è talmente anestetizzati da certi stimoli che c'è bisogno di volta in volta di stimoli più forti è gioco forza osservare cito Lipovetsky che nelle società iper individualiste i desideri di godimento dei sensi per quanto siano onnipresenti non hanno assolutamente fatto passare in secondo piano l'ideale di essere soggetto per l'altro di essere una persona insostituibile cioè la relazione si cerca con un oggetto con un oggetto se che nutra il narcisismo non con un altro soggetto la civiltà edonistica ha comportato un escalation di richieste di rispetto di riconoscimento individuale di attenzione per la persona più di quanto abbia stimolato un culto di erotismo estremo non c'è lo spazio per il desiderio e per il vero eros e per la relazione si cerca un oggetto che soddisfi il narcisismo il bisogno narcisistico e la relazione non è tra due soggetti mi rallaccio e poi concludo a quello che dicevo nella premessa sull'ombra il passaggio all'adolescenza è un passaggio veramente complicato e prevede lo scontro l'incontro e lo scontro con dei contenuti davvero molto pesanti nella nostra società non c'è un rituale codificato di passaggio anzi questa cosa viene posticipata il più possibile tanto che adesso si vuole far durare l'adolescenza fino ai 32 anni mi informo ma forse anche fino ai 50 alcuni 50 anni direi vabbè il rito di iniziazione invece spesso un rito molto efficace nelle tribù e nelle culture primitive che segna che segna la forza di questo passaggio conferendogli anche una certa sacralità la società moderna non prevede riti di iniziazione che sanciscono il passaggio all'adolescenza ma la ricerca attuale da parte degli adolescenti di rituali che agiscano simbolicamente la transizione ad una nuova forma di esistenza ci fa seriamente prendere in considerazione l'ipotesi che l'impulso all'iniziazione sia archetipico è in tutte le culture da sempre presente tranne che nella nostra nelle parole di Mead negare che ogni individuo deve lottare sulla soglia della scoperta spirituale ed emotiva di se stesso alla fine distrugge ogni consapevolezza partecipata della sacralità della vita la ferita simbolica agita in modo cerimoniale nelle società tradizionali sancisce la fuoriuscita dalla fanciullezza e permette all'adolescente di sperimentare qualcosa che va al di là di se stesso come potenziale del sé ed è necessaria al processo di costruzione dell'identità Ilman dice che l'iniziazione si riferisce alla transizione dalla coscienza unicamente puer ferita e sanguinante a una coscienza puer senex aperta e cicatrizzata i riti di passaggio non sono spariti ma hanno assunto forme di espressione nuove mascherate questo è importante oggi la nostra gioventù arriva ad afferrare lo stato adulto in modi piuttosto pericolosi attraverso la partecipazione a culti religiosi l'abuso di sostanze sempre più dannose la fuga di casa la denutrizione autoprovocata l'automutilazione i tentati suicidi autodistruttivi i comportamenti autolesivi sono estremamente presenti hanno a che fare con la ricerca di un rituale agiscono sul corpo l'affermazione di sé che una volta era lo scopo della cosiddetta ricerca di identità per certi adolescenti è diventata una ricerca di autonegazione non hanno strumenti per affermare la loro identità quindi tendono a distruggerla paradossalmente per salvarla l'ultima cosa in assoluto è che questo lo dico quando si tratta appunto di adolescenti che sono entrati nel tunnel della criminalità e della devianza che l'adolescenza è un periodo estremamente plastico siamo nell'area dell'età evolutiva quindi non si possono fare diagnosi o profili cristallizzati sarebbe un danno veramente terrificante per gli adulti si usa nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi si usa una modalità che è categoriale tolgo così si vede pezzo per pezzo cioè si basa su criteri fenomenologico descrittivi criteri di inclusione hai certi sintomi sei questo non li hai non sei questo ma per l'adolescenza che è appunto una fase di rimaneggiamento di tutto non si può fare un discorso di questo tipo quindi si fa riferimento a dimensioni funzionali semplicemente e si mettono in rapporto queste dimensioni funzionali che sono dei tratti che ci accomunano dei tratti di funzionamento che ci accomunano alla funzionalità o disfunzionalità semplicemente facendo una diagnosi psicodinamica cioè una diagnosi in evoluzione piuttosto che cristallizzare un ragazzo lo stesso vale per i bambini in una posizione che lo condanna definitivamente la famosa profezia che si autorealizza e questo anche rispetto al recupero alla possibilità di recupero e ho concluso qua grazie ringraziamo la dottoressa Monica Letta per davvero per io credo per l'onestà e il coraggio con con cui ci propone delle riflessioni insomma su argomenti difficili molto dibattuti che talvolta non abbiamo neanche come dire la capacità di accogliere in maniera no insomma sì quindi è una grande occasione grazie davvero per credo per aprirci un po' di più e sviluppare una maggiore una comprensione più profonda dell'animo umano la ringrazio moltissimo anche per aver parlato della sacralità della vita che è al centro anche no dello spirito dei diritti umani di cui insomma spesso no condividiamo la portata noi ci avviamo ad una pausa ancora no intanto passo la parola alla collega Eleonora Grimaldi che ci insomma condivide la tabella di marcia e volevo inviare un saluto alla consigliera Irma Conti che ci ha lasciati perché insomma è la nostra comunque grande sostenitrice e promotrice perciò insomma oggi è stato bello averla anche brevemente con noi anche se non c'è volevo comunque insomma ci tenevo ad inviarle un saluto e un ringraziamento a più tardi allora grazie appunto ai relatori che hanno preceduto grazie a Paola che come al solito è sempre accogliente e riesce a cogliere sempre tutte le sfumature io brevemente volevo diciamo fare delle dire appunto delle delle osservazioni ossia con il primo relatore la dottoressa Grimaldi abbiamo visto delle diciamo ci sono state date delle indicazioni delle parole chiave che noi come mediatori penali effettivamente dobbiamo tenere in considerazione innanzitutto ascoltare i silenzi come già diciamo abbiamo visto nelle precedenti lezioni anche l'altra volta nella mediazione nella simulazione di mediazione la gestione del conflitto con soggetti che possono essere aggressivi ma anche evitanti e passivi e quindi questo per noi è molto importante soprattutto per riconoscere i tipi umani che abbiamo davanti e la comunicazione che poi è l'obiettivo diciamo della mediazione ossia praticamente la riapertura dei canali di comunicazione in vista di un accordo riparativo altri spunti di riflessione interessanti relativi all'intervento della dottoressa Letta sono diciamo partire dalla famiglia per arrivare al tipo umano che ne deriva e questo per noi ulteriormente interessante perché nei momenti in cui andiamo a fare l'incontro di mediazione abbiamo già delle indicazioni importanti rispetto al comportamento di chi abbiamo di fronte e quindi a quello che in qualche modo può aver avuto alle spalle oltre al fatto che naturalmente il tipo umano che deriva da una determinata situazione familiare non essendo un calcolo aritmetico è sempre un insieme poi di elementi diversi abbiamo visto le famiglie poi possono essere anche oscillanti tra funzionali e disfunzionali ma anche quelle che sono le risorse umane del soggetto in questione quindi proprio il materiale umano che poi è in evoluzione e poi un altro elemento interessante sempre relativo alla dottoressa Letta il ruolo paterno perché noi comunque come giuristi sappiamo che il minore in tenerissima età ai tre anni quindi l'ordinamento penitenziario anche per le detenute le ICAM eccetera quindi questo ruolo materno è importantissimo ma in realtà un ruolo paterno altrettanto fondamentale perché assolutamente noi c'è stato questo per anni il diritto di famiglia ha messo al centro la cosiddetta maternal preference in realtà diciamo anche la paternal è fondamentale per lo sviluppo equilibrato dell'individuo e poi infine la questione appunto del sesso che è secondo me una cartina d'ornasola interessante perché parliamo di una società dell'immagine dove c'è una questione di innanzitutto adeguatezza continua rispetto a quello che siamo all'esterno e soprattutto un limite praticamente assolutamente un relegare all'angolo quello che è il concetto di intimità se pensiamo a tutte le varie immagini che vengono postate a Instagram eccetera noi siamo di una generazione precedente naturalmente però i ragazzi tra i 12 e i 13 anni praticamente come se l'intimità loro non ce l'avessero proprio come concetto perché hanno un bisogno di condivisione di immagini e di stati che è assolutamente estremo e a quel punto chiaramente anche quello che viene creato è la categoria di soggetto che vuole essere proiettato all'esterno quindi un essere sempre vincente pulito preparato profumato eccetera il che nasconde in realtà quello di cui parlava la dottoressa Letta due lezioni fa l'ombra l'ombra che invece è fondamentale e che ci abbiamo tutti dentro e che dobbiamo curare nel senso di take care cioè proprio in inglese nel senso di farcene cura allora io perdonate ma purtroppo oggi siamo tanti e abbiamo tante cose di cui parlare soprattutto la parte finale del genogramma per me è molto importante che voi diciamo l'affrontiate quindi io volevo passare immediatamente la parola alla dottoressa Francesca De Rinaldis la criminologa che appunto è psicoterapeuta e criminologa docente di presso l'università degli studi della Tuscia consulente tecnico del tribunale di Viterbo consulente tecnico e perito nell'ambito della psicologia giuridica investigativa e questo diciamo lo aggiungo io è stata diciamo anche allieva del professor Bruno quindi insomma siamo ben felici di averla con noi prego allora buongiorno a tutti un attimo di pazienza che carico le slide che ho una presentazione da condividere con voi eccola qua allora io ringrazio innanzitutto gli organizzatori per questo piacevolissimo invito mi fa molto piacere essere questa mattina con voi a scambiarci qualche riflessione non posso non prendere avvio dagli interventi che mi hanno preceduta e dagli stimoli di riflessione che hanno scoperto perché sono state portate all'attenzione diciamo così delle grandi verità spesso non troppo visibili spesso negate che spesso però purtroppo sono alla base di tanti atteggiamenti e comportamenti disfunzionali che possono anche avere delle rigadute sul piano di quello che poi è più direttamente conosciuto come comportamento criminale il titolo del mio intervento è il minore reo profili criminologici è un titolo mentre lo pensavo abbastanza complesso mi sono detta un titolo dicevo abbastanza complesso mi sono detta ma perché complesso perché comunque riguarda tre diversi diciamo così soggetti il minore il comportamento criminale e la criminologia in senso più ampio ricollegandomi alle ultime riflessioni che ci ha lasciato la dottoressa Letta vi chiedo di fare lo sforzo di pensare a questo nostro scambio di informazioni come ad un contesto dinamico perché parliamo di elementi dinamici cioè in movimento in evoluzione non statici perché quando ci riferiamo al minore e lo abbiamo capito attraverso gli interventi che mi hanno preceduta quando ci riferiamo al comportamento e al comportamento criminale e alla criminologia ci riferiamo comunque ad a contesti dinamici in evoluzione in movimento il minore lo capiamo perché comunque parliamo di un soggetto in formazione in divenire il comportamento criminale anche è una categoria dinamica perché non esistono categorie standard standardizzabili in senso universale di comportamento criminale partendo dal presupposto per esempio che in tanti in quanto il comportamento criminale al pari di qualunque altro comportamento riflette la personalità e la persona di chi lo attua capiamo automaticamente che di conseguenza stiamo parlando di un concetto molto dinamico e la criminologia la criminologia è una disciplina dinamica ma perché è dinamica? perché a seconda del contesto sociale a seconda del periodo storico dei cambiamenti socio-culturali antropologici politici e via dicenda e via vicendo scusate cambia faccia perché quello che è definito come criminale in un determinato contesto storico o in un determinato contesto socio-culturale può non esserlo in un altro pensiamo alle nuove forme di comportamento umano che solamente in tempi più recenti hanno avuto comunque sono state passate il termine elevate al grado di comportamento criminale mi riferisco per esempio per fare un esempio più vicino con i nostri tempi al comportamento del bullismo e del cyberbullismo che fino a poco tempo fa mi sembra che la legge è entrata in vigore nel 2017 non erano praticamente riconosciuti come comportamenti criminali oggi lo sono l'evoluzione sociale la sensibilità anche nei confronti di determinate manifestazioni comportamentali fa sì che poi sul piano sociale assumano così i connotati della criminalità quindi tornando a quello che è il concetto dinamico di criminologia dobbiamo immaginarcela come quella disciplina che studia scientificamente e questo guardate è molto importante perché spesso viene ridotta a speculazione parlare tanto per interpretare dire un'opinione su qualcosa in realtà la criminologia è una scienza che fonda le sue diciamo caratterizzazioni sulla base di quelle che sono note appunto come scienze forensi quindi si nutre di approcci scientifici che fa suoi e che ha poi il compito di mettere in una cornice di senso in un contesto di senso comunque ecco la criminologia studia scientificamente la criminalità i vari tipi di criminalità la natura e la dimensione del crimine e quindi non può prescindere dalla cornice sociale culturale nella quale il comportamento criminale va ad iscriversi il comportamento criminale l'autore del crimine e non da ultima e non meno importante la vittima del crimine che solo in tempi purtroppo recenti ha ricevuto l'attenzione che invece giustamente merita di poter appunto godere perché è elemento imprescindibile nella comprensione di quella che tecnicamente chiamiamo criminogenesi e criminodinamica di un fatto delittuoso cioè perché un fatto delittuoso un fatto criminale accade e perché accade proprio in quella maniera questo ce lo siamo già condiviso ecco torniamo al minore allora quindi dicevamo il minore è un soggetto in evoluzione in formazione è una persona in continuo divenire che arricchisce completa trasforma il proprio senso di identità costruzione appunto della propria personalità attraverso l'esperienza attraverso le criticità che incontra nel suo percorso appunto esperienziale nel suo percorso esistenziale importante ecco mi riallaccio alle riflessioni sollevate dalla dottoressa Letta la considerazione cioè tenere sempre come dire in considerazione quello che è la storia della persona quello che non solo è come dire lo standard delle tappe evolutive è quello che ci si aspetta che un ragazzo che un bambino nel suo percorso di formazione debba incontrare e poter adeguatamente superare ma pensiamo anche alle varie criticità che possono di volta in volta nella soggettività di ogni singolo contesto andare ad interferire con un percorso esistenziale sano ed armonico per così dire e tutte quelle situazioni di disagio quindi che ne possono praticamente poi di conseguenza derivare però dobbiamo fare molto attenzione ad un aspetto che ci tengo a sottolineare cioè che parlare di disagio non vuol dire automaticamente parlare di antisocialità o parlare di criminalità come se un disagio fosse necessariamente l'anticamera di un comportamento necessariamente antisociale o criminale perché nel percorso esistenziale di un ragazzo che pur vive dei disagi delle difficoltà possono intervenire poi dei fattori protettivi e possono essere attivate delle risorse che se adeguatamente come dire canalizzate adeguatamente utilizzate possono poi portare a dei percorsi di crescita sana quindi la correlazione che dobbiamo tenere in considerazione quando si parla di disagio e crimine è una correlazione che è di tipo probabilistico da questo punto di vista occorre fare molta attenzione a quello che la MERT chiamava il processo di etichettamento cioè cosa accade? Accade che se un ragazzo fisiologicamente diciamo così fisiologicamente nel proprio percorso esistenziale incontra un momento di difficoltà mette in atto un comportamento deviante per il quale viene diciamo così riconosciuto e quindi appunto ecco etichettato come il malato l'aggressivo quello che crea disagio quello che crea confusione quello che porta problemi tenderà purtroppo a riconoscersi in quell'etichetta perché è attraverso quell'etichetta che è principalmente riconosciuto e a strutturare attorno a questa la propria identità quindi a identificarsi in senso negativo con una dimensione appunto negativa della personalità che però lo rende riconoscibile e riconosciuto dagli altri si attiva in questa maniera quella che la MERT ha connotato come il passaggio tra la devianza primaria diciamo così quella occasionale che può capitare nell'arco del percorso esistenziale di un soggetto appunto adolescente con quella che invece rischia di diventare una devianza secondaria cioè quando l'etichetta fa sì che la personalità vada a costruirsi attorno all'etichetta quindi che il soggetto si confonda con l'etichetta che gli viene socialmente attribuita e finisca poi col proseguire su quel binario che gli viene praticamente preparato quindi stiamo molto attenti quando poi parliamo di situazioni di disagio di adolescenti difficili a non cadere mai nel sillogismo disagio uguale crimine perché tanti comportamenti criminali spesso e questo guardate è quello che ci sorprende più di qualunque cosa maturano all'interno di contesti che sembrano essere lineari non caratterizzati da quello che dice ma eppure grandi traumi grandi problemi una persona così per bene con un percorso così lineare che sarà successo allora è matto no ok perché sennò la correlazione è se non c'è il fattore oggettivo strutturale di tipo sociale educativo allora è sicuramente matto no non è così ecco quindi dobbiamo sempre poi cogliere le sfumature di ogni singola soggettiva situazione ora ci sono vari comportamenti che rientrano nella cornice della cosiddetta devianza piuttosto che antisocialità nell'arco appunto di vita di un adolescente mi riferisco all'adolescenza perché guardate poi giustamente come è stato introdotto prima di me l'adolescenza è il periodo in cui maggiormente maturano e vengono a verificarsi quelle forme disfunzionali di comportamento che poi assumono i connotati appunto della criminalità questi sono alcuni forse più rilevanti o quelli ecco diciamo così statisticamente più rilevanti rispetto ai comportamenti antisociali adolescenziali con ricadute appunto sul piano criminale che possiamo trovarci praticamente ad incontrare e mi sento insomma di dire una cosa che comunque ecco molti di questi comportamenti possono avere comunque ecco diciamo varie sfumature vanno da livelli bassi diciamo così di offensività di rilevanza e gravità fino a manifestazioni elevate di gravità o comunque ecco di antisocialità perché molte di queste forme comportamentali rischiano poi di cadere su profili criminali gravi come per esempio l'omicidio vi parlerò infatti poi a breve insomma nei prossimi minuti perché più tardi sembra nei prossimi minuti appunto anche di un caso di omicidio di un ragazzo compiuto da un ragazzo che all'epoca dei fatti aveva 17 anni di età quindi per capire anche un pochettino quelle che sono le criticità che ci interessa andare a valutare in questo tipo di situazioni una piccola parentesi su questo aspetto cioè quanto oggi influisce la mediazione della realtà virtuale nella relazione con l'altro nella relazione con la società e nell'autoregolazione di se stessi purtroppo assistiamo e dico purtroppo diciamo così oggi in maniera sempre più massiccia ad una sostituzione della relazione reale chiamiamola così quella face to face con una relazione sempre più immediata dal mezzo informatico dallo schermo abbiamo parlato prima dell'importanza del corpo di quanto il corpo contribuisca alla formazione della propria identità e personalità immaginiamoci in un'epoca dove la relazione immediata dal virtuale quanto diciamo così il corpo inteso proprio come gestualità anche come possibilità di contatto rischi insomma di essere fortemente compromesso si tende a dire no? non ci si parla più di persona si parla solo attraverso messaggini chat eccetera ma non è solo il parlare pensiamo anche al contatto oculare che viene meno pensiamo alla possibilità anche no? del corpo di leggere il movimento del corpo dell'altro la distanza la vicinanza e capire quindi al di là di quello che viene narrato raccontato espresso verbalmente quello che invece no? l'altro in quel momento sta comunicando ora il mezzo mediatico diventa un come dire un elemento che io oserei definire per certi aspetti tra virgolette criminogeno nel senso che facilita la messa in atto di comportamenti criminali di un certo tipo di comportamenti criminali perché l'illusione della distanza il non vedere l'altro il non cogliere l'emotività dell'altro non potersi misurare e confrontare con l'emotività dell'altro può facilitare il passaggio all'atto e pensiamo a tutti quei comportamenti di violenza perpetrati attraverso i social network per esempio i fenomeni di cyberbullismo dove non è necessario conoscersi perché io sono autorizzato in qualunque momento a mettermi in fila a tutti gli altri che in un gruppo già sostanzioso di persone insultano un ipotetico mister X che io necessariamente appunto ripeto non devo conoscere però mi permette questo di esprimere un pensiero aggressivo scaricare una tensione nervosa aggressiva e violenta senza lo scrupolo di come sta all'altro perché in quel momento quello che ho realizzato è la scarica di una mia pulsione di un mio bisogno che si esaurisce nella soggettività questo facilita che cosa? quei meccanismi di depersonalizzazione e deumanizzazione che sono alla base di tanti comportamenti criminali cioè un criminale per far sì che la propria azione aggressiva lesiva dell'altro venga messa in atto con successo ha necessità di distanziarsi emotivamente dalla vittima di non percepirne i connotati di umanità e di soggettività di trasformarla in oggetto quindi come puro strumento di raggiungimento di un obiettivo e di un piacere e facilitano quelli che Bandura individuava come meccanismi di disimpegno morale vale la pena quindi chiederci a questo punto quanto un minore sulla base di questi elementi può avere consapevolezza non solo del comportamento criminale che ha messo in atto ma anche delle conseguenze che questo produce sulla sua sfera identitaria ma anche sulla vittima soprattutto sono degli interrogativi che specialmente pensano in un contesto di mediazione penale minorile in cui si va a lavorare sulla relaborazione del fatto e sulla ristrutturazione di sé nel fatto e della percezione comunque della vittima sono elementi che dobbiamo tenere in stretta considerazione vado molto velocemente su questi principi che sono più vostri che i miei cioè nel senso io li apprendo da voi e quindi non vengo logicamente a spiegare nulla però sappiamo come il processo penale minorile sia molto attento alla comprensione della personalità del minore cioè si chiede chi è la persona dietro quel comportamento dietro quell'azione criminale a differenza di quanto accade con gli adulti dove insomma ci interroghiamo sì secondo me sì però è vero sono perfettamente d'accordo e c'è un problema in tutto questo di fondo che rende difficile la valutazione della persona del minore reo cioè è il cosiddetto concetto di maturità concetto quanto più come dire evanescente labile che possa che possa praticamente esserci perché non direttamente ricollegabile a delle categorizzazioni precise perché necessariamente risente della soggettività del singolo e soggettivo percorso esistenziale e delle tappe del percorso esistenziale del minore coinvolto in un certo tipo di comportamento per cui i fattori ambientali educativi familiari e tutta un'altra serie appunto di elementi che concorrono alla strutturazione del percorso di vita del ragazzo o della ragazza appunto coinvolta perché non ci dimentichiamo che anche le ragazze fanno la loro buona fetta di hanno inciso appunto sulla strutturazione della sua persona e quindi sulla messa in atto di un certo tipo di comportamento questo fa sì che a parità di condizioni per esempio ambientali educative due persone possano avere per esempio due gradi di maturità completamente differenti è anche possibile quindi dedurre come il concetto di maturità correlata ad un determinato contesto ambientale culturale diverge da quello che possiamo invece dedurre da un altro contesto ambientale culturale ecco perché ogni volta che si va a valutare la maturità del minore e quindi il suo grado di responsabilità nel comportamento reato occorre prendere in considerazione una pluralità di fattori andando molto ecco velocemente su quello che praticamente sono poi le teorizzazioni delle voci più aturevoli nel campo della psichiatria forense della psicopatologia forense cito tra tutti Fornari Fornari individua quattro diversi livelli di maturità che devono essere valutati quando si ha a che fare con un minore reo e Fornari parla vedete da questa slide di quattro piani differenziati parla di sfera biologica parla di sfera intellettiva ma parla soprattutto anche di sfera affettiva e quindi relazionale e di sfera sociale per riallacciarmi insomma all'esempio del quale volevo parlarvi è il caso praticamente di un ragazzo che all'epoca dei fatti all'età di 17 anni e 10 mesi per la precisione quindi capite come siamo proprio su un confine veramente sottile uccide con 30 coltellate un coetaneo ne occulta il cadavere e viene praticamente guardate individuato come responsabile per una serie sfortunata di circostanze secondarie per delle goffaggini così comportamentali che lui mette in atto e che poi porteranno facilmente alla sua individuazione il comportamento dei fattori correlati alla dinamica dell'evento fanno sospettare passiamo questo termine al giudice che possano aver concorso nella determinazione di questo atto dei fattori psicopatologici o potenzialmente psicopatologici quindi dispone una perizia sulla maturità e annessa capacità di intendere e di volere ed eventuale giudizio di pericolosità sociale perché comunque parliamo di un ragazzo di quasi 18 anni di età con un quadro comportamentale di un certo tipo che quindi muove nel giudice l'interesse a capire fino in fondo i perché e i come soprattutto da dove si è generato questo tipo di comportamento ci siamo trovati dico ci siamo perché ho partecipato in un collegio per Italia data la complessità in quel caso dell'accertamento davanti ad un ragazzo che sulla sfera biologica affettiva e sociale presentava delle fortissime lacune parliamo di un ragazzo con un percorso esistenziale caratterizzato da gravissimi episodi di bullismo che lo hanno fortemente condizionato parliamo di un ragazzo che è cresciuto in un contesto di isolamento sociale causato anche da questi comportamenti di bullismo dei quali praticamente era vittima dalle elementari alle medie fino alle superiori perché parliamo di un piccolo centro abitato dove può capitare che i ragazzini con cui cominci gli elementari sono anche quelli che ti ritrovi alle superiori quindi oramai diciamo la frittata è fatta parliamo di un ragazzo quindi che però con una caratterizzazione diversa sul piano intellettivo perché sul piano intellettivo abbiamo un ragazzo che ha un quoziente intellettivo misurato anche attraverso una strumentazione appunto psicodiagnostica ha un quoziente intellettivo superiore alla media quindi quando poi al giudice sulla base di alcune considerazioni di natura psicopatologica ma anche di natura affettivo relazionale sociale e anche di tipo biologico andiamo a dire che il ragazzo non ha raggiunto un complesso di maturità il giudice dice ma scusate ma se mi dici che è di una intelligenza superiore al campione della sua media come posso pensare io che uno che ha un quoziente intellettivo così elevato non sappia rendersi conto e cosciente delle conseguenze dell'azione che va a mettere in atto ora qui ti diamo in ballo un concetto importante che è quella che Fornari individua come intelligenza di condotta detta molto semplicemente non è sufficiente essere dotati di un buon bagaglio cognitivo di un'intelligenza cognitiva cioè non basta essere intelligenza sul piano quantitativo ma occorre esserlo sul piano qualitativo cioè dobbiamo chiederci questo ragazzo è in grado di utilizzare in maniera funzionale e adattata il suo bagaglio cognitivo in questo caso la risposta era no perché fattori relazionali fattori emotivi fattori affettivi fattori familiari e quindi di regolazione affettiva identitaria con la famiglia gli rendevano impossibile usare in maniera passatemi il termine sano comunque socialmente adattata e adeguata il grande bagaglio cognitivo che pur questo ragazzo possedeva per cui se a livello intellettivo sta a 100 per dire a 130 per la precisione ecco non senza usare appunto simboli a 130 sul piano della condotta relazionale parliamo di un ragazzino che dico ragazzino non a caso che a 17 anni e 10 mesi ce lo immaginiamo già come un giovane adulto pronto per lo troviamo invece come un ragazzo che vive in una condizione comportamentale inferiore rispetto a quello che dovremmo aspettarci per il proprio grado di età e lo vediamo dalla scelta per esempio dei giochi fa giochi molto infantili è un ragazzo che non riesce a relazionarsi agli altri è un ragazzo che ha scelto di vivere in un mondo ovattato si è costruito una sorta di realtà parallela che ha sostituito un mondo in cui lui è un supereroe un mondo in cui lui è dotato di competenze di capacità a quel mondo invece reale che invece lo vede come soggetto emarginato e marginabile e frustrato e quindi incapace di agire positivamente nel contesto sociale in cui vive paradossalmente il crimine che lui mette in atto è una sorta di affermazione quasi della propria persona e della propria personalità come se avesse voluto con quell'atto lasciare un segno di sé nella società andando paradossalmente a colpire proprio colui che incarnava quegli elementi quelle caratterizzazioni che erano invece oggetto che erano diciamo così che rappresentavano i ragazzi che gli agivano violenza nella vita nella vita reale quindi ha scelto simbolicamente colui che incarnava le caratteristiche di quel male diciamo così persecutorio che lo aveva relegato ad una vita di isolamento ad una vita di emarginazione sociale per vendicarsi e per affermarsi quindi la complessità logicamente del percorso esistenziale di questo ragazzo ha reso necessario che si approdasse ad un approfondimento valutativo di tutto quello che è la sfera relazionale affettiva ambientale a 360 gradi che ruota attorno alla vita di questo ragazzo e mi permetto di dire una cosa che quando si fanno accertamenti di questo tipo non bisogna mai essere superficiali cioè diffidiamo dalle osservazioni superficiali perché è un lavoro che necessita di approfondimento di una pluralità di azioni di indagine di una pluralità di colloqui che per esempio come in questo caso devono vedere necessariamente coinvolte anche le figure genitoriali in questo caso specifico le figure genitoriali per esempio sembravano completamente non rendersi conto comunque non comprendere la complessità di quanto un percorso esistenziale pregresso caratterizzato da fenomeni di bullismo isolamento sociale marginazione ed etichettamento avessero condizionato la vita di questo ragazzo perché dice ma lui non ce n'ha mai parlato sì forse una volta una spinta a scuola giù dalle scale ma niente di che poi lui è in gamba se le sa risolvere queste cose lui se la vede parla sistema tutto noi lo vedevamo tranquillo non ci siamo mai chiesti come andassero realmente le cose fuori ai suoi amichetti ai suoi amichetti beh davanti a un genitore che piuttosto che responsabilizzare e responsabilizzarsi rispetto al comportamento di un figlio che a 17 anni uccide un coetaneo in maniera così violenta lo etichettano come ragazzino che gioca con i bambini della sua età insomma alla luce di quello che ci siamo fin qui scambiati penso che ci debba fortemente far riflettere quindi ecco la persona come risorsa prima di tutto e la rete intorno alla persona diventa risorsa perché prima di comprendere perché e come una persona ha compito un determinato comportamento dobbiamo interrogarci e comprendere chi c'è dietro quel comportamento cosa c'è dietro quello che socialmente sono portati ad etichettare come mostro prima si parlava di adolescenti che sono aggressivi verso i genitori che attuano comportamenti violenti attraverso i genitori alcuni sfociano poi in vere e proprie condotte omicidiarie non so se vi ricordate il caso del 2016 mi sembra di quel ragazzo che a Ferrara ha chiesto la complicità di un amico di un coetaneo per uccidere i propri genitori l'intento praticamente poi diciamo è stato raggiunto in complicità insomma con questo amico i due genitori vengono praticamente uccisi io ricordo che nei giorni successivi ci fu da parte dell'opinione pubblica e anche della cronaca nazionale un atteggiamento molto colpevolizzante nei confronti del ragazzo e dei ragazzi insomma in generale e un etichettamento in negativo di questi giovani che hanno tutto ma perché allora arrivano a commettere atti così abberranti la domanda era come può un ragazzo di 16 anni arrivare ad uccidere un genitore che gli dà tutto perché c'è il giubbotto firmato perché c'è il motorino più bello perché c'è il cellulare e io mi ricordo che in quella circostanza un giornale locale mi chiese praticamente un'intervista un'intervista diciamo così concordata perché dottoressa la chiamiamo le chiediamo facciamo qualche domanda su questo caso vorremmo che lei ci spiegasse come mai questi ragazzi d'oggi che hanno tutto uccidono i genitori quindi la mostrificazione no? dell'autore del reato in questo caso io tranquillamente mi sentì in quella circostanza in dovere di dire praticamente al giornalista guardi che se vi aspettate da me un'intervista dove io devo dire tutti gli adolescenti di oggi sono brutti sporchi e cattivi perché sono degli ingrati che si ribellano a chi gli dà tutto e ritrovato la persona sbagliata per chi sono più portata per deformazione professionale non lo so a empatizzare invece con l'autore del reato cioè mettiamoci nei panni di un ragazzo di 16 anni che arriva a non solo a fantasticare e desiderare ma anche a mettere in atto un comportamento di questo tipo pensiamo al fatto che la morte di un genitore non conta che età abbiamo è destabilizzante a prescindere cioè non si smette mai di essere figli partendo da questo presupposto proviamo a pensare cosa può scattare nella mente di un ragazzo che ha 16 anni invece desidera di sopprimere i propri genitori e anzi se ne vuole rendere responsabile dobbiamo interrogarci su questo perché è un atto di responsabilità che la società adulta oggi è chiamata a prendersi a riprendersi la società adulta la giustizia e tutti gli operatori che comunque hanno il dovere il compito di prendersi cura comunque delle fasce più fragili della società perché poi non ci scordiamo sono quelli che un domani dai quali ci aspettiamo insomma che sappiano stare nei posti nei posti giusti io concluderei così vi lascio così almeno ai prossimi interventi grazie ho corso perché non c'è la tempo grazie io ringrazio la dottoressa Francesca di Rinaldi che è sempre chiarissima ma poi soprattutto ci ha portato due elementi nuovamente di riflessione cioè il concetto di vittima e quindi di vittimizzazione di soggetto passivo di oggettivazione della vittima nel comportamento criminale che è esattamente invece il lavoro che il mediatore penale va a fare a contrario cioè va a rispolverare l'empatia quindi questo per noi è molto importante e il concetto invece di reo che così come viene poi percepito cioè un soggetto che comunque in quanto si è ha commesso un'azione antisociale efferata la società lo espelle sostanzialmente quindi non è colpa mia è un soggetto strano è un soggetto che ha dei problemi sicuramente non lo possiamo aver prodotto noi società occidentale civile quindi queste sono due riflessioni che secondo me sono fondamentali e noi che facciamo i mediatori penali che invece accogliamo e apriamo all'empatia alla comunicazione sicuramente insomma sono due elementi fondamentali allora io introduco adesso la dottoressa Melia Izzo che oltre a essere supervisore di case famiglia educatrice mediatrice familiare e facilitatrice perché appunto è diciamo fa parte un coordinatore dei cosiddetti gruppi parola che diciamo poi sono qui a Roma diciamo sono sono praticamente studiati appunto all'università cattolica e ci introdurrà appunto il concetto di genogramma e anche diciamo una breve esercitazione prego allora buongiorno a tutti dopo una giornata così intensa capisco che rilassarsi un po' è una cosa molto bella no? io di solito faccio laboratori esperienziali e credo che in un in un discorso di alta formazione come la dottoressa Grimaldi ha voluto fare qui con con voi avvocati sia importante che poi a un certo punto oltre che leggere quello che succede agli altri dobbiamo leggere quello che succede a noi io ho questa visione un po' mia ormai che porta avanti da anni e poi ho trovato così mentre mentre ascoltavo le colleghe una cosa bellissima fatta da un avvocato perché dico sempre sono sempre un po' fuori fuori ambiente no? non è eh sì è l'avvocato Deborah Val che ho trovato interessantissima per cui a questo punto mi servo delle parole di un avvocato così sì eccola me la presento poi la insomma sì sì gli faremo un applauso insomma perché ha dato modo a me di aprirmi a voi perché non è non è semplice lei dice nella sua prefazione a questo libretto che vi invito a leggere perché quando la persona incomincia così poi il contenuto io l'ho sfogliato così perché poi rimango attratta dalle parole iniziali dice quante volte si è sentito dire che il motivo che ha spinto molti avvocati a svolgere questa professione è proprio all'idea di non dover mai gestire le emozioni perché guardate purtroppo con me lavoriamo sulle emozioni oggi perché eh quello che eh incominciando dalla pediatra ma la criminologa la psicoterapeuta eh quello che tutti ci chiedono poi alla fine soprattutto il cliente che ci sta di fronte che si tocca le mani che è agitato che studia è un'emozione che ci passa e su quell'emozione dovremmo poi veramente instaurare un rapporto di comunicazione che soprattutto è il nostro con noi stessi e la grande capacità di relazionarci con gli altri perché quello che rende eh un giudice un avvocato veramente capace di dare poi alla fine un giudizio e poter arrivare a una conclusione come abbiamo visto anche soprattutto con i minori io ci lavoro continuamente perché tra l'altro sono anche counselor e per cui adesso ho un minore difficilissimo tra le mani e l'atteggiamento io ho fatto due incontri e poi ho detto voglio incontrare la madre che me l'ha portato perché a volte i ragazzi non hanno niente e la famiglia che ha un grosso problema e siccome non lo riesce a risolvere e lo vede nei figli perché noi vediamo sempre negli altri il giudizio arriva sempre guardando gli altri allora è più facile dottoressa c'è mio figlio che non lo so che gli è successo ma da 14 anni a 15 un passaggio strano dalle scuole elementari alle scuole elementari e alle scuole medie insomma è già stato difficile dalle medie alle superiori mi ha tirato il piatto appresso l'altro giorno e se sono entrato ha chiuso la camera dove si mette a studiare grosso problema con un bambino che aveva gestito fino a qualche minuto fa ma da quello che abbiamo sentito oggi perdonatemi io sono anche madre è la madre che non ha saputo gestire quel bambino visto che gli chiude la porta è talmente stanco di sentirla allora non vado oltre Eleonora parlava di genogramma il genogramma purtroppo ci siamo resi conto che non è possibile farlo perché non abbiamo una lavagna però io ho sempre poi un'idea giusta al momento giusto allora niente genogramma facciamo la scultura che secondo me è molto più bella molto più intensa molto più comunicativa e perché no anche molto più passionale perché ci mettiamo la passione che la nostra famiglia ci ha insegnato che cosa è la scultura la scultura non è altro che la descrizione della nostra famiglia sì io però devo andare in mezzo a loro devo venire in mezzo a voi la scultura non è altro che l'emozione che noi portiamo dentro della nostra famiglia che oggi descriviamo la facciamo in due modalità così vi rendete conto realmente di che cosa è il passaggio se dobbiamo collaborare tutti quanti insieme io chiedo anche a quelli che stanno sopra che ho visto che sono tanto interessati mi piacerebbe che tu venissi giù visto quella domanda intelligente che hai fatto ti spingo a venire giù insomma perché potrei non trovare nessuno giù ma ho bisogno ho bisogno di collaborazione ho bisogno di persone che si prestano a questo a questo momento emozionale che facciamo insieme perciò ho bisogno di un uomo e ho bisogno di una donna così ci rendiamo conto anche della differenza che ci porta non solo perché le due persone poi gestiscono la scultura in realtà diventiamo Michelangelo grazie a tutti grazie a tutti